Grazie Signore Gesù, grazie a nostra Madre Santissima, grazie Luisa per l'opportunità di essere riuniti insieme in nome di nostro Signore, per pregare insieme, per addentrarci insieme per quel poco che possiamo scalfire giusto la superficie della infinite verità sul vivere nella Divina Volontà. Questa dottrina celeste non è nulla di umano, è del tutto celeste, dicevamo oggi con Pasqua, o Dio rivela o noi non sappiamo. Non c'è teologia speculativa o ispirazione o altro che tenga della Volontà Divina, dice ma che si deve sapere? I comandamenti li conosciamo, certo, conosciamo i precetti, conosciamo le disposizioni della Santa Chiesa, conosciamo tutto quello che ci viene insegnato nel Magisterio della Santa Chiesa. C'è cos'altro c'è da sapere? La Divina Volontà per regnare pienamente e ritornare al suo regno primiero, così come regnava nell'atto della creazione, ha ricominciato a manifestarsi dal momento in cui Dio parla con Adamo e gli spiega le conseguenze del suo peccato, dice però la donna schiaccerà il capo del serpente e quindi promette questa redenzione. La redenzione per essere tale, per essere completa non è solo salvezza, non è solo un rimediare, non è solo consentirci di rientrare in paradiso per il rotto della cuffia, con i mezzi dei sacramenti, rede o redes, redenzione, dal latino restituire, restaurare, affinché Dio sia un Dio di successo, un Dio che compie, deve riportare la creatura allo stato primiero. Per fare ciò ricomincia pian piano, lui non ha fretta, a manifestare la sua volontà. Parlò dopo un paio di migliaia di anni ad Abramo esci dalla tua terra, va dove ti porterò, e lui va, lo prova e comincia a parlare pian piano, senza fretta, perché noi abbiamo bisogno di tempo, no? Indica un popolo prescelto, all'interno di questo popolo addirittura indica una tribù, all'interno di questa tribù di Giuda indica una stirpe, da lì verrà questo salvatore. Dalla stirpe di Davide nascerà il salvatore fino alla nascita di Gesù e lì si compie l'incarnazione con la venuta del Redentore. Ecco però, dice Gesù, con la mia venuta sulla terra la mia volontà regnava perfettamente nella mia umanità, ma non la lasciai come centro nella creatura, perché ancora la creatura aveva bisogno di prendere tutti i frutti della redenzione. Pertanto, quando diciamo ci ha lasciato questa preghiera, che preghiamo da duemila anni, e Gesù si mette a capo di questa preghiera, e anche se noi non sappiamo esattamente cosa chiediamo, anche se noi l'abbiamo pregata per duemila anni distrattamente, si è messo Gesù a capo di questa preghiera e dice, vedi padre, vedi cosa ti chiedo, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, cioè sia fatta questa tua volontà nella creatura così come si fa in Dio. Padre nostro che sei nel cielo, sia fatta in me la tua volontà come si fa in te. Come la fa la volontà Dio? Cos'è per Dio la sua volontà? La volontà nella creatura, e maggior ragione in Dio che è creatore delle nostre volontà umane, è lo svolgimento della sua vita divina. Quindi la sua volontà è il motore che innesca, accende e opera tutti gli atti, questi atti non escono fuori dalla sua volontà ma restano contenuti nella sua volontà. E questa sua volontà ha tutte le caratteristiche della sua natura, natura divina, onnipotente, eterna, infinita, volontà di Dio con tutte le caratteristiche e le proprietà della natura divina. Pertanto quando si muove la volontà di Dio, si muove con tutte le proprietà, le caratteristiche, la potenza, la sapienza, l'onivegenza, l'universalità, l'infinità della volontà di Dio, a differenza della volontà della creatura, che ha tutte le caratteristiche proprie della natura umana. Dice, siamo partiti un po' troppo a bovo. Oggi penso che ci siano tante persone qui che già abbiano sentito parlare di questi scritti, pertanto vogliamo entrare dentro questa volontà e cominciare ad operare insieme con essa. L'atto per entrare nella volontà di Dio è l'atto del fondersi nella divina volontà. Nella. Oggi nelle meditazioni sentivo mettiamo il ti amo sul... No, negli scritti Luisa non c'è la parola sul, c'è nel. Nel senso che dal di fuori di questa volontà possiamo attaccare come un adesivo con il vetro da fuori, c'è ti amo, ti prego aiutami, intercedi, passami dal passavivande, passami qualcosa, sul, attaccare. Invece nel, entrando in questa volontà, perché lo vuole Dio, perché è dono suo, non perché lo meritiamo, perché ne abbiamo la capacità o la possibilità di farlo, o Dio ci consente di entrare o noi non possiamo entrare. Entrando in questa volontà, facciamo atti nella volontà e quindi gli atti che facciamo acquisiscono le caratteristiche, le proprietà della volontà divina, che sono le proprietà della natura divina. Allora anche col linguaggio cominciamo ad abituarci e quando entriamo in questa divina... Come ci entriamo? Con la volontà. Quando entriamo in questa volontà, il nostro ti amo, il nostro atto, non lo mettiamo sull'atto, ma lo facciamo nell'atto, è atto nostro. Mi alzo è atto mio, mi siedo è atto mio. Nella volontà divina gli atti di Dio depositati in essa divengono atti miei, diventano vita mia. Pertanto sono atti miei. Che cosa ci faccio con questi atti, in questi atti? Tante possibili cose. La libertà dei figli di Dio. Possiamo farci infinite cose con questi atti, in questi atti. Ecco, oggi in particolare vogliamo entrare negli atti della divina volontà, nella incarnazione del Verbo e nella sua vita nascosta, proprio perché ci troviamo in questo periodo liturgico. E' chiaro, noi povere creature viviamo in un ambiente di tempo e spazio, abbiamo bisogno di atti sequenziali. Quindi nella divina volontà, immaginiamo che la divina volontà sia questa stanza, quante molecole di ossigeno ci sono in questa stanza? Trilioni su trilioni su trilioni. Ogni molecola di ossigeno è un atto di volontà divina. Immaginiamo di assorbirlo, di farlo nostro. Come possiamo? Con che ordine ci perdiamo? Allora ci facciamo aiutare da nostra Madre Santissima e dall'ordine dell'operare di Dio. Ecco, probabilmente nel giro vero e proprio, forse ci entreremo domani. Adesso cominciamo a considerare questa cosa. Quando Gesù comincia a manifestare a Luisa la sua volontà, come la prescelta per una missione unica. Verso la fine del volume 12 diventa molto chiaro, lascia da banda la terra. Luisa pensava che la sua missione era quella di offrirsi vittima e quindi stava attaccata all'umanità di Gesù e a qualunque costo voleva impedire i castigli, voleva perorare il bene dei suoi fratelli, perché Gesù stesso veniva a soffrire nei fratelli castigati e peccatori. Gesù dice, guarda, quando devo fare un'opera grande ci dobbiamo buttare avanti, lascia da banda la terra, adesso prepariamo per loro questo regno. Allora Luisa diventa il prototipo, diventa l'anima modello concepita con peccato originale come noi, diventa il prototipo di questa santità. Quindi Luisa non è una che ha i messaggi, non è un tramite, non c'entra niente l'intercessione, Luisa è un modello, Luisa in questa creatura Gesù fa il prototipo di questa formazione di vita divina nella creatura. questa opera divina unica nella storia dell'umanità, unica come unica la creazione, come unica la redenzione, questa opera del terzo fiat di riportare la divina volontà a regnare come vita nella creatura è compiuta in questa creatura, l'ultima delle ultime, la più improbabile, la meno attraente, così che non ci confondiamo e pensiamo che ci vogliano meriti, ci voglia bellezza, ci voglia istruzione, ci voglia grande capacità, ci voglia, ecco, ci vuole la volontà. Ovviamente non ha preso nostra Madre Santissima a modello, quando parliamo di nostra Madre Santissima lei è un tutt'uno con Gesù, doveva però scegliere una creatura di stirpe comune, questa creatura è Luisa. Allora all'inizio Luisa si attacca all'umanità di Gesù e inizia a conoscerla talmente tanto, talmente bene, che non può vivere senza di lui. Se Gesù non la va a trovare, mi hai promesso che ci venivi, se non va almeno, ecco, una, due volte al giorno, Luisa impazzisce di dolore. Questo dolore è comprensibile? Sì e no, nel senso, nella misura in cui l'anima conosce Dio, tanto è grande il dolore nel sentirsi priva di lui. Dice Gesù, quante creature vivono senza di me eppure non mi conoscono, pertanto non gli manco, non hanno un pensiero per me. Luisa lo conosce, arriva a conoscerlo tanto bene che un respiro senza di Gesù è pena d'inferno. La sua privazione, la grande sconosciuta, è una pena divina, non è pena umana. Prima dice quando non ti vedo è come un purgatorio, poi dice no no, è di più del purgatorio, è come l'inferno, è peggio dell'inferno perché almeno quelle anime lì non ti amano, io invece ti amo. Allora Luisa conosce l'umanità di Gesù e Gesù comincia a rivelare a Luisa pian piano a manifestare, a comunicare come la sua divinità, la divinità di Gesù operava dentro la sua umanità, non solo per darle una bella notizia ma per dire guarda questa vita voglio che sia tua, questi atti miei voglio che siano atti tuoi. Allora dicevamo già un'altra volta, possiamo sempre pensare a queste due dimensioni, c'è una dimensione relativa alle disposizioni per vivere nel divinvolere, inutile parlare di vivere nel divinvolere se non si vive nella grazia, se non ci mettiamo in ordine con Dio. Ecco, possiamo dire che nei primi dieci volumi Gesù parla della perfezione della vita cristiana, in un modo unico rispetto anche agli altri santi, perché lui personifica le virtù, Luisa parla con la signora obbedienza, con la signora umiltà, nel senso che anche le virtù stesse cristiane sono degli attributi viventi dell'umanità di Gesù. E con questa divina volontà Gesù chiama Luisa a fondersi, ad entrare continuamente in questa volontà e dice chiamami perché voglio che questa volontà sia sempre con te e animi i tuoi atti, anche se io non ci sono, fai questa sostituzione, io sparisco, prendi la mia volontà come se fossi io. Ma Gesù non è possibile. Poi Luisa fa la prova la prima volta, il volume 3 dice ammirabile segreto della volontà di Dio, indescrivibile la tua felicità, addirittura in te riesco a trovare il mio amato. E dice Gesù a volte riesco pure a stare senza di te, ma senza della tua volontà no, perché nella volontà di Dio si trova anche il verbo incarnato, Gesù. Allora, se da una parte c'è il tema delle disposizioni di cui non ci occuperemo in questi giorni, almeno per quanto mi riguarda, cioè le disposizioni affinché l'anima desideri, accetti e si disponga con la capacità a ricevere questo dono. E sono le virtù cristiane. Dal volume 1, Gesù comincia, il volume 1 dell'anima, no, dal distacco, distacco dalle creature, distacco dalle cose sante, dalla persona sante, importantissimo. Mi posso, lo so che il terzo cono gelato mi fa male, ma anche un attaccamento a una persona santa o al direttore spirituale, queste dipendenze, no, via tutto. Ordine santo nelle cose e con le persone. Poi c'è la mortificazione e poi dice non pensare più al passato e poi le spiega la carità. C'è cosa è la carità? Per me, con me, in me. La carità parte proprio da Gesù. Fai tutto con me, in me e per me. La carità per il prossimo è una conseguenza della carità dell'anima che riceve l'amore di Dio, risponde a questo amore con il suo stesso amore e di conseguenza ama il prossimo. A volte si parla di carizzi in mezzo alla carità, dice ho fatto la carità, ho dato questa donazione, no. L'amore del prossimo senza l'amore di Dio è falso, non esiste. Quindi questa è l'area delle disposizioni. Poi pian piano Gesù comincia a parlare di questa divina volontà e dice vedi, vedi Luisa, così opera la divina volontà in me. Io vivevo in balia del padre, non facevo altro che le opere del padre, come Gesù dice anche in Giovanni. Io non parlo per mia autorità, dico solo le cose che mi ha istruito il mio padre a dire, non agisco per mia autorità ma faccio le opere del padre. Allora è la mia divinità che opera in me, con questa divinità che è animata dalla mia divina volontà, opero tutto e ho fatto tutto. Pertanto l'incarnazione è una e con 33-34 anni di vita Gesù ha potuto fare tutto e il padre ha detto ecco il mio figlio amato, in lui ho posto tutta la mia compiacenza perché in lui trovo l'uomo rifatto, trovo la gloria di tutta la creazione, trovo la versione divina della mia vita, della tua vita e tutto depositato nell'umanità di Gesù come una donna che deve partorire e Gesù muore dalle doglie di parto perché vuole partorire, vuole dare la divinizzazione di questi atti che sono fatti in sé, vuole darli a noi perché li prendiamo come atti nostri. L'unico modo per farlo è tramite la volontà, tramite la volontà della creatura, creata immagine e somiglianza della volontà divina, che voglia liberamente e scientemente, conoscendo ciò che fa, ciò che Dio le vuole dare, sapendo ciò che può ricevere e vuole ricevere, riceve questa, nel suo nulla della sua umana volontà, riceve l'operare del tutto della divina volontà. È spiegabile tramite le leggi della natura? Assolutamente no. È come dire, in una goccia dell'oceano la apro e ci trovo tutto l'oceano. Il tutto si chiude nella parte, nel nulla. E questo è il miracolo dei miracoli. Ho prodigio del mio valere, non c'è prodigio più grande che la mia volontà operante nel nulla della creatura. Allora, prima Luisa inizia ad entrare in questa divina volontà fondendosi nell'umanità di Gesù, perché è lui il vivere nel divinvolere. In lui c'è volontà umana e volontà divina. Conosciamo questo termine ipostaticamente unita alla sua umanità e alla sua divinità. Per lui ciò è natura. Gesù è vero uomo e vero Dio. Adesso ciò che lui accade in natura, e in Maria Santissima per grazia, per dono, vuole che accada anche nella creatura di stirpe comune, che la sua divina volontà operi nella umana volontà come vita. Quindi dicevamo all'inizio, non come legge, non come disposizioni, ma come vita. Allora possiamo dire che la divina volontà ha sempre regnato. Ma com'è il regime di questo regno? neanche, diciamo, conosciamo i regni, non so, nei governi c'è questa è una monarchia costituzionale, questa è una repubblica, questo è un regime dittatoriale. Il regno della divina volontà ha sempre regnato. Ma come regna nella creazione? Con le leggi naturali. Come regnava nell'Antico Testamento, dopo la manifestazione delle tavole delle leggi? Con i comandamenti. Come ha regnato con un regime superiore dopo l'incarnazione, dopo la redenzione? Come ha regnato con il regime della grazia? Cos'è la grazia? È un effetto della divina volontà. Adesso, come diceva, San Paolo diceva, non sono io più che vivo, ma è Cristo che vive in me. Sapeva San Paolo che Cristo poteva vivere in lui, non solo tramite la sua grazia, o Sant'Ignazio, San Paolo, dammi solo la tua grazia, questo è sufficiente per me. No, non lo sapevano, perché non conoscevano che c'è un regime ancora superiore, o meglio, lo pregavano che questo venisse, ma come si svolge, come facciamo? No, no, non facciamo, o Dio ce lo dà o noi no. Quindi il regime superiore si chiama come in cielo così in terra. venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Questo è il regime del regno della divina volontà, una volontà che si fa nella creatura come si fa in Dio. In Dio la volontà è vita, non è comando, pertanto la volontà di Dio si faccia nella creatura come vita così come si fa nel verbo incarnato, come vita. Ecco, Luisa non comincia subito a girare negli atti della divina volontà, Luisa comincia col chiamare Gesù nei suoi piccoli atti, quindi c'è una dimensione in cui Luisa chiama la divina volontà a scendere nella piccolezza dei suoi atti e poi Gesù dice adesso io sono venuta a fare il tombolo in te, sono venuta a parlare in te, sono venuta a dormire in te, a soffrire in te. E non si ferma qui, questo è soltanto l'inizio, questo è il trampolino? Dice ma pensi che sia finita così la divina? No, no, questa è solo l'entrata, adesso vieni a vedere, vieni su, vieni a vedere cosa sto facendo, non perché per mostrarti uno spettacolo meraviglioso, ma perché sono atti tuoi? In quale volontà stai? Nella mia? E gli atti miei sono atti tuoi. Quindi Luisa dice, la divina volontà dice fammi scendere nel basso degli atti tuoi e io ti farò salire nell'altezza degli atti miei, ci metteremo a gara, tu a salire e io a scendere. Pertanto vieni volontà divina a pregare in me, ad operare in me, questa è soltanto la condizio sine qua non. Poi dobbiamo slanciarci a prendere possesso di tutti gli atti che stanno depositati e sono pullulanti e sono viventi e sono in atto nella divina volontà. È qui che Luisa comincia il suo giro continuo, continuamente, questa è la sua vita. La vita di Luisa è questa continua attività interiore, per questo Gesù ci ha messo di fronte al paradosso di una che sta nel letto, non ha fatto niente, non ha fondato un ordine, non ha fatto opere sensazionali, ci ha messo di fronte al paradosso, così non ci viene, diciamo, la tentazione di voler definire l'anima che vive nella divina volontà come, ecco, un'anima che faccia determinate cose, che abbia una determinata struttura di vita interna, no, perché Luisa è inimitabile, la sua vita esterna è un paradosso, o ci mettiamo tutti nel letto, ma non credo sia questo quello che Gesù vuole. Allora, proprio da questa posizione di immobilità esterna, Luisa invece aveva un'attività interna che non appari nella storia dell'umanità, eccetto ovviamente Gesù e Maria Santissima, ha viaggiato più di tutti, ha operato più di tutti, vai, cammina, devi arrivare al principio, al principio della creazione dell'uomo, ancora di più al principio dell'atto ad intra della Santissima Trinità, al principio era il verbo, il verbo era con Dio e il verbo era Dio. La Genesi, San Giovanni, o la Genesi dice, al principio quando Dio creò il cielo a terra, lo spirito alleggiava sulle acque. Ecco, Luisa deve arrivare da questo principio fino alla fine, dal tempo all'eternità e di nuovo nel tempo, deve ripercorrere tutti gli atti e tutte le generazioni. Ecco, in particolare seguendo un ipotetico round, un ipotetico tragitto del giro di Luisa, cominciava con la creazione. Adesso noi non ci soffermeremo, avremo l'opportunità di farlo magari un'altra volta, ne abbiamo già fatto in passato, però ecco Luisa che fa? Entra negli atti della Divina Volontà e trova l'atto creazione del sole, l'atto chiamato stella, l'atto chiamato l'una. Questi sono atti. San Francesco che cosa faceva? Poteva mettere il Tiamo su quell'atto, sull'opera, ma non aveva la possibilità di entrare nell'atto fratello sole, non aveva quella conoscenza, non c'era quel dono disponibile. Adesso sì, pertanto San Francesco dice, anima e sbrigatevi, affinché Dio possa compiere l'opera che ho tanto desiderato, ma non ho avuto in quel tempo l'opportunità di compierla. Adesso è come se la compissi in voi, perché ne avevo desidero, sarebbe stato il primo ad entrare in tutti gli atti della creazione, Santo Francesco. Allora Luisa entra per esempio in tutti gli atti della creazione, dice Marina ti stai allungando troppo, non dobbiamo fare l'incarnazione del verbo, ma come facciamo? Entriamo velocemente negli altri atti per arrivarci. Ecco, ci sono queste due dimensioni che poi seguiremo un po' sempre, no? Questo è un ambiente quasi cartesiano, nell'asse verticale c'è la varietà delle cose create e possiamo, c'è la progressione della genesi, il cielo, la luna, le stelle piuttosto che il fulmine, la pioggia, poi c'è la terra fiorita, tutto il regno vegetale, il regno animale, con le creature del cielo, della terra, delle acque eccetera. E poi la creazione dell'uomo. Luisa percorreva tutti questi atti e che cosa ci faceva? Neanche Luisa sapeva tanto cosa farci con questi atti, l'ha imparato pian piano e questo lo vediamo nella progressione degli scritti. La varietà nell'asse orizzontale, la varietà di atti che l'anima può fare, dice entro nell'immensità della volta celeste, che atto possiamo fare? Quello più semplice è riconosco il dominio divino, riconosco che tu sei Dio creatore, è l'atto di base, riconoscere il dominio divino, poi ne farà tanti altri. Però ecco, dopo la creazione dell'uomo che cosa faceva Luisa? Luisa non si fermava lì, entrava nell'antico testamento, stiamo facendo un breve excursus prima di entrare negli atti un po' in particolare vogliamo entrare questa volta. E che cosa faceva? Entrava nella creazione dell'uomo e quindi la sua natura, la creazione dell'intelletto, la memoria, la volontà e poi il soffio che gli dà il dono della divina volontà, i primi atti di Adamo innocente, si univa agli atti universali di Adamo innocente, poi viene la prova, la caduta, le conseguenze della caduta e poi la promessa della restaurazione. Luisa ogni giorno anche di passaggio faceva la sua visitina. E anche noi con questa slide brevissima vogliamo fare la nostra visitina per dire, vedi Gesù, questi atti che sono qui vivi, noi comunque li riconosciamo. Adesso nel tempo e nello spazio non ci addentriamo, però li riconosciamo. E quindi già ci facciamo parte di questo giro completo universale. Abbiamo questa pretesa della universalità, della completezza. Nell'umana volontà tutto è parziale, se faccio questo non faccio questo, se parlo di questo non parlo di quest'altro, se dono ad A non dono a B. Ecco, la divina volontà ci dà questo grandissimo vantaggio. In qualsiasi punto ci poniamo in essa, è sufficiente che siamo in essa per fare tutto quello che fa, per essere dovunque essa sia, per essere con Dio e in tutte le opere di Dio. È risolto il problema dell'uomo, è risolto il problema della scarsezza, o scarsità, scusate l'ignoranza, delle risorse. Dopo che fa Luisa? Mica si ferma, no, entra nell'Antico Testamento. E quindi la promessa del Redentore, il diluvio, Abramo, la chiamata di Abramo, il sacrificio di Abramo, la prova di Abramo. E poi la primogenitura, Ismaele, Isacco. E poi Abramo, Esau e Giacobbe, le dodici tribù. Sappiamo che, ecco, Giacobbe poi è diventato Israela, dopo aver combattuto con quel personaggio misterioso. Dice, tu come ti chiami? No, il nome te lo do io. Tu ti chiamerai Israele perché hai lottato con Dio. E da, ecco, un brevissimo escursus, da Israele, da Giacobbe, tutti i suoi, i suoi figli, le tribù, le dodici tribù di Israele, Mosè con il passaggio del Mar Rosso, gli ebrei nel deserto, la terra promessa, i re, la dinastia, l'esilio, la cattività e il ritorno in patria. Sono una slide dell'Antico Testamento un po' veloce. Però, ecco, vogliamo dire, Gesù, noi vogliamo riconoscere la tua divina volontà in tutti questi atti. E per ognuno di questi atti possiamo fare tantissime cose. Un ti amo, una compagnia, un bacio, un venga il tuo regno, un nulla. Contempliamolo questo atto. Stiamoci dentro, stiamoci in silenzio. Dopodiché Luisa che faceva? Dopo l'Antico Testamento l'alba della redenzione. Luisa entrava nei mari di Maria Santissima. Per esempio nel volume 19 dice Luisa, Madre Santissima, ecco, mi metto nei tuoi mari, nei tuoi mari di potenza, nei tuoi mari di sapienza, di amore, di virtù, di preghiera, di dolore, di gioia, di gloria. Entro in questi mari, che cosa sono i mari? È volontà divina operante. Già nell'Immacolato Concepimento, Gesù parla dell'Immacolato Concepimento come di un concepimento che si effettua dentro i mari che sboccano dalla divinità. Il padre fa sboccare mari di potenza, il figlio mari di sapienza, lo spirito mari di amore e questi mari costituiscono la sostanza del suo concepimento. E quindi Maria Santissima Immacolata è immersa in questi mari, che dice Gesù in quel passo, il primo passo del volume 15 dove inizia a parlare dell'Immacolato Concepimento, ce ne saranno poi una decina di 8 dicembre fino al volume 36, questo Immacolata con questi mari continuano a stare intorno a Maria, non solo per proteggerla ma per farla crescere continuamente. Sono mari crescenti. Ecco, dicevamo prima, in tutti questi atti, non su tutti, ma in tutti questi atti che cosa facciamo? Anche Luisa pian piano ha una progressione, lo vediamo velocemente, negli scritti di che cosa impara lei, cosa può farci con questi atti. Il primo atto che lei fa è quello di riconoscere la volontà divina in quest'atto. È un atto primo di riparazione. Anche, non lo so, nel volume uno era a torre disperato, quando ancora non sapeva dove Gesù sarebbe andato a parare, dice Gesù dove sei? Opere di Dio, fiori, cielo, terra, parlatemi di Lui. Allora riconosce la presenza della volontà del Creatore in tutte le opere. Allora non fosse altro che per dire, di mia volontà, ti riconosco nel sole, ti riconosco nel concepimento immacolato di Maria, ti riconosco nel passaggio nel Mar Rosso, ti riconosco. È già un atto necessario, assoluto, è necessario, che l'anima deve fare. Cos'altro fa? Ti adoro. A volte Luisa fa questo giro e mette solo la sua adorazione. Che cosa si intende per adorazione? Gesù dice l'atto primo di adorazione è riconoscere la volontà di Dio per farla. Noi pensiamo che l'adorazione, allora in generale, almeno io pensavo, l'adorazione sia l'attitudine di un nulla che si mette di fronte al tutto e si prostra. Gesù dice, vuoi sapere qual è il modello della vera adorazione? Il modello della vera adorazione si trova nella Santissima Trinità. Il padre genera il figlio e adora se stesso nel figlio. Il figlio adora il padre, lo spirito procede e adora il padre e il figlio. Si adorano, ci adorano nell'unità della Santissima Trinità perché vedono la perfezione assoluta. Non è che il padre sia un po' più potente del figlio, il figlio un po' meno sapiente o più sapiente del padre. No, vedono la perfezione massima delle qualità divine pertanto adorano se stessi nell'altro. E allora adorare nella divina volontà è innanzitutto entrare in essa, prendere possesso delle qualità divine per dire io ti adoro come ti adori tu, ti adoro come ti adora il verbo, ti adoro padre come ti adora lo spirito, ti adoro come vi adorate nell'unità della Santissima Trinità. Adorazione. Dice qualsiasi altra cosa non è adorazione ma è larva, un'imitazione. Poi cosa fa? Luisa a volte gira in tutti questi atti e dice mi dolgo, chiedo perdono per tutti, dolore, perdono. Non è che fa tutte le cose contemporaneamente, anche Luisa vive nel tempo e nello spazio, vive nella sequenzialità, fa una cosa al giorno, una cosa a giro. E una volta Luisa dice entro negli atti della divina volontà e dice Gesù metto, ecco voglio chiedere perdono in ogni tuo atto, in ogni tuo atto della tua redenzione, nella tua vita pubblica, nella tua vita nascosta, anzi voglio dolermi nel sole, nella luna, nelle stelle. Perché queste opere di Dio dipendono da noi, sono state create per noi. E dice ancora San Paolo, la creazione muore di doglie di parto, perché? Perché ha bisogno di una volontà e questa volontà chi gliela deve dare? Gliela dobbiamo dare noi? Gesù dice a Luisa avrai potuto dare una volontà al sole, immagina che bello, un sole che mi dice ti adoro. Però questo voleva la mia gloria. Il mio amore gridò più forte e disse no, tu non darai una volontà al sole, la dai alla creatura, la creatura presterà la volontà al sole. Allora le cose create dipendono da noi, vogliono dispiegare e compiere lo scopo per cui sono state create, che è quello di comunicare l'atto creatore e preservante che è in esse, l'atto e tutto l'amore, la grazia e la conoscenza che Dio vi ha messo. Per fare questo, per ricevere questo, per ricambiare questo, o entriamo nella divina volontà oppure bussiamo da fuori. chiedo perdono per tutti, che fa anche poi, a volte Luisa ripara per tutti, atto di riparazione, e per fare la riparazione deve riparare con l'unica vera riparazione, non con il sacrificio degli agnelli o dei piccioni, ma con la riparazione fatta dal divino riparatore e quindi prende l'atto di Gesù per riparare, per ogni atto, non solo per ogni peccato, ma anche per ogni atto umano fatto con l'umana volontà, non animato da una volontà divina. Ecco, in effetti, diciamo così, stiamo facendo saltelli nell'infinità, però per darci un'idea di, ecco, qual è la progressione degli atti che seguiva Luisa nel suo giro e quali sono le infinite possibilità di atti che lei poteva fare in ognuno di questi. E c'è una progressione perché Luisa non comincia con riparare, Luisa comincia con riconoscere, poi comincia ad adorare, poi chiede perdono, poi ripara, poi ringrazia. Dice, ti aspettavo, dice Gesù, ti voglio ringraziare oggi per tutto quello che hai fatto e tutti i prodigi che hai fatto nella mamma bella immacolata e per i prodigi della tua volontà nella nostra mamma dice, ah figlia mia, aspettavo, non sai da quanti millenni, secoli aspettavo questo atto, chi doveva venire a ringraziarmi? Finalmente la piccola figlia della divina volontà ha messo questo ringraziamento universale per avervi donato la mamma celeste. E per quanto ancora possiamo operare? Abbiamo un lavoro 24 ore su 24. Ah, arriva il ti amo. Dice Gesù, il ti amo è amore, è venerazione, è stima, è eroismo, è sacrificio, è fiducia, il ti amo è tutto. Luisa sul ti amo si sofferma molti e molti e molti e molti giri. A volte non sapendo cosa fare dice, Gesù, lo so che tu gradisci il ti amo, metto il ti amo, non sul, nel atto. E infatti, quando Luisa non conosce ancora bene, che cosa fai divina volontà in questi, che cosa fai divina volontà nella pietra, nel monte, che cosa fai in questi, Gesù dice, metti il tuo ti amo, metti il tuo ti amo, perché la mia volontà riceve il ti amo della creatura e si fa possedere. La volontà divina, sentendosi amata, non può non rivelarsi. Metti il tuo ti amo e la divina volontà ti farà sapere che cosa sta facendo. Di modo che tu le puoi fare compagnia. In questi anni, ancora, mi viene mento, in questi giorni, stiamo seguendo alcuni, magari, di noi, gli eccessi d'amore nella incarnazione del verbo, cosiddetta novena di Natale. Luisa la chiamò novena di Natale perché non aveva la più pallida idea di cosa Gesù volesse fare. Poi, nel volume 25, molti anni dopo, quando sente il sacerdote che è la legge in cappella, Gesù dice, figlia mia, quanto ti devo ringraziare che hai scritto questi eccessi d'amore. Tu ringraziare, ma grazie a te, Gesù, che le hai manifestati. E questi sono altri atti, non da aspettare il Natale, ma i nove atti, gli eccessi d'amore nell'incarnazione del verbo. Uno di questi, per esempio, il quinto giorno, che sarà dopo domani, non so se seguiamo la novena, il quinto giorno è Gesù che dice, io voglio la compagnia della creatura, mi sento solo. Io, ecco, sono il vostro fratellino, ma voglio la compagnia di tutti i vostri atti, voglio la vostra compagnia, sono venuto per ricevere la vostra compagnia, non mi lasciate solo. Una volta Luisa gira per gli atti della Divina Volontà e dice, vengo per farti compagnia. La Divina Volontà, in tutto ciò che fa, non vuole stare da sola, ma esige la compagnia della sua creatura. Allora, pertanto, un giorno non fosse altro che per fargli compagnia senza bisogno di tante parole. Ci facciamo la nostra passeggiata, con il libro, senza libro, con le parole, senza parole, con la volontà. È l'unica cosa che conta. Ti faccio compagnia e più ti faccio compagnia, più ti amo e più ti conosco. Conosco che cosa fai. E quindi è una progressione, un crescendo, una sinfonia di atti, uno dopo l'altro, uno sopra l'altro, che arricchiscono il giro di Luisa, il giro dell'anima che vive nella Divina Volontà. Li fa tutti insieme e non avrà l'impressione di farli tutti insieme. Oggi metto il ti amo, domani ti faccio compagnia. E questa è la nostra piccola condizione, di essere soggetti al tempo e allo spazio, a sequenzialità di atti. Ma l'importante è che stiamo dentro, se ne faccio uno, li faccio tutti. Però è importante saperlo. Allora, più vado in giro in questi atti e più questi atti si rivelano per quello che sono, e più si fanno conoscere. E arriverete alla conoscenza di Gesù e raggiungerete, come dice gli Efesini, la maturità, la statura del Verbo, che sarebbe conoscere il Padre come lo conosce il Verbo. Ti conosco. Non è tutto. La conoscenza porta il possesso. Allora, la Divina Volontà vuole essere posseduta. Dice, figlia mia, io devo trovarmi in te, devo vedere in te, devo ritrovare in te tutte le mie opere. Vai, continua a girare. Altrimenti, se ti guardo, vedo qualcosa fuori di te, no, io devo trovare tutto me stesso in te. Pertanto mi devi possedere, mi devi internalizzare, mi devi mangiare. Pertanto, all'atto dell'assunzione di Maria Santissima, i cieli si espandono, non possono contenerla. e dicono, oh, prodigio dei prodigi, miracolo, ma cos'è? Una creatura completa. La guardiamo ed è solo esplendente. La guardiamo ancora ed è terra fiorita. Non le manca niente. In lei vediamo Dio. Vediamo tutte le opere di Dio, tutto l'operare del nostro Dio. Non le manca niente. È l'unica opera compiuta di tutta la creazione. Allora, l'anima che vive nella divina volontà vuole, girando in questi atti, adorare, ringraziare, amare, fare compagnia, per conoscere sempre di più, quindi possederli sempre di più. Se li possiedi, ce li hai dentro, li racchiudi. Questo è, questa è l'estasi di Dio. Vedete, cioè noi, vabbè, la nostra volontà in noi stessi è meravigliosa, ma la nostra volontà operante con tutto ciò che fa, con tutto ciò che contiene, con tutte le sue qualità, nel nulla della creatura, che follia. Solo noi la potevamo pensare, una cosa simile. Solo noi. Ti racchiudo. Allora, il giro con santa sfrontatezza, con ardire, con coraggio, con fiducia. Una volta Gesù dice a Luisa, per girare nella mia volontà ci vuole abbandono, cioè io pensavo che ci volesse uno spirito attivo, un sacco di risorse, no, no, abbandonati. Cosa fa poi, una volta che Luisa racchiude questi atti? Ha racchiuto in sé, dice, giriamo nella creazione, adesso l'anima racchiude la terra fiorita, il sole, l'armonia delle stelle, ma non come opere, come atti. Poi vedremo un'altra volta che sono questi atti nella creazione. Dice, cosa ci fai adesso con questi atti che stanno dentro di te? Ci faccio quello che voglio. E cosa voglio? venga il tuo regno. Questi sono atti miei e con la autorità della tua volontà che io possengo, ti dico, venga il tuo regno. Con l'autorità che ebbe Maria Santissima quando disse Fiat Mihi. Altro che fanciulla spaventata, dice, no, il Fiat sta dietro di me, dice l'arcangelo, aspetta il tuo Fiat. Allora quel Fiat si fa, ha parlato, si fa l'autorità, la potenza della divina volontà operante in Maria Santissima. E gli angeli, qual è il compito degli angeli? Gli angeli servono la volontà di Dio che operi in Dio o che operi nella creatura. Pertanto si inginocchia di fronte a Maria Santissima. e pertanto l'angelo che disse no disse non servirò perché non voglio servire una volontà di Dio che opera in una natura incarnata. No, per carità. L'estrema superbia. Non serviam. Al limite posso servire il trono dell'Altissimo ma servire una volontà divina operante nel verbo incarnato che prende una natura umana? No. Per questo il nemico sfugge di fronte a Maria Santissima. Perché vede la pienezza della volontà divina operante nella creatura. Inaccettabile. Per noi questo di questa sua non servia ma questo sia per noi mistero più grande del mistero della Santissima Trinità. Non ci vogliamo andare. non è roba nostra. Venga il tuo regno e poi ancora Luisa diventa ancora più coraggiosa e dice Sole mi hai dato Sole ti do. Ti do la pariglia come dice lei. Mi hai dato questo atto lo faccio mio e te lo do come mio. Ti sei incarnato prendo la tua incarnazione e mia e te la offro come mia e Dio la prende come fosse una sorpresa che non si aspettava è la follia di un Dio che vuole ricevere se stesso dalla sua creatura. Questo è il vivere nella divina volontà. Un Dio folle di amore che vuole ricevere se stesso dalla sua creatura. ci fermiamo. Continuiamo sempre nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amo. Grazie Signore Gesù Grazie Padre Santissimo Grazie Spirito Santo Grazie Nostra Madre Santissima Vieni Illuminaci per farci comprendere che significa volontà di Dio Vieni Luisa piccola figlia della divina volontà tu che hai il diritto primo su ogni nostro atto vieni a presiedere a questa comunità a questi atti a questa meditazione perché tutto serva alla formazione del Regno nelle nostre anime nel mondo intero Spirito Santo Tu che sei l'autore il protagonista di questo terzo Fiat Spirito castissimo Spirito dello Spirito di Dio perfezione delle perfezioni Vieni Spirito Santo Illuminaci nel parlare nell'ascoltare nell'operare Sei tu che ci insegni sei tu che operi Grazie Spirito compi in noi l'atto primo della nostra santificazione che è la divina volontà Spirito bello Sposo di Maria Santissima Compagno e felicità delle nostre anime Vieni Spirito Santo Ecco al mattino a colazione poi anche nella preghiera abbiamo compiuto i nostri primi atti al sorgere del sole della divina volontà nella divina volontà al sorgere del sole naturale ma al sorgere del sole divino nell'anima nostra allora magari ho sentito qualcuno che ecco come molti di noi sono ai primi passi tutti siamo ai primi passi magari alcuni hanno sentito parlare di Luisa soltanto un paio di mesi fa due mesi vent'anni c'è poca differenza l'eternità non basterà però per renderci le cose semplici perché siamo bimbi siamo piccoli ecco abbiamo all'inizio del giorno e poi in cappella chiamato la divina volontà in tutti quanti i nostri atti ci siamo fusi in Gesù nella umanità di Gesù perché è lui il vivere nel divino volere e parte per parte non perché abbiamo voluto perdere del tempo basta dirlo una volta ma perché Gesù stesso dice figlia mia fonditi me parte per parte a che tu ti convinca che non sei più che vivi ma sono io che vivo in te il tuo intelletto la tua memoria la tua volontà le tre potenze dell'anima i tuoi sensi il muovere delle tue mani i tuoi passi ogni particella dell'essere tuo i tuoi organi interni ogni pulsare dei nostri organi interni chiedano il regno siano uniti all'umanità di Gesù nulla si è lasciato al caso si è lasciato senza uno scopo abbiamo visto lo scopo qual è? che venga la divina volontà a regnare e lo vogliamo con questa stessa divina volontà dice Gesù Luisa da ogni piccola particella dell'essere tuo esigo la mia gloria pertanto ben venga quel tempo che noi passiamo all'inizio della giornata con questo nostro atto preventivo che previene che anticipa che copre tutto dicevi io mi metto al sicuro ancora devo infilare il piede nella ciabatta oppure mi è sfuggito sto già preparando il caffè eppure Gesù guarda che senso ha questa giornata soltanto in te per te in te mi muovo in te vivo cosa voglio il tuo regno Gesù viene ad operare in me nella mente nella memoria nella volontà nei sensi questo sguardo sia il tuo l'udito sia il tuo e che faceva Gesù nella sua umanità tre atti fondamentali proprio per rendere le cose schematiche atto di Gesù uno e trino innanzitutto gloria al padre ogni atto di Gesù è rivolto a glorificare il padre ti rendo grazie padre a te onore gloria padre lui è il capostipite di tutta la famiglia umana per lui tutto è stato creato e io per tutti in nome di tutti padre ti rendo grazie ti rendo gloria ti rendo onore abbiamo detto un paio di mesi fa che cosa vuol dire gloria gloria negli scritti di Luisa è compimento della volontà di Dio onore è dare a Dio la possibilità di comunicare se stesso allora questa è la prima non diciamo intenzione è la prima volontà di Gesù in ogni suo atto la seconda si guarda intorno e dice guarda questi poveri miei fratelli come sono ridotti a causa del peccato devo dobbiamo rimediare mi offro io a pagare per loro mi offro io a riparare per loro a rimediare per loro allora ti impetro padre grazie di misericordia di perdono di conversione di metanoia di redenzione di salvezza per tutti il primo atto gloria al padre secondo atto per orare la causa dei suoi fratelli questo è quello che facciamo noi insieme con Gesù e il terzo atto qual è? il compimento di tutto che tutto serva affinché la tua divina volontà venga a regnare in loro come regna in me allora nel momento in cui noi facciamo il nostro atto preventivo al mattino e ci fondiamo parte per parte in Gesù diciamo vedi allora Gesù non mio questo sguardo ma tuo allora Gesù lo prende come vuole per dare gloria al padre per impetrare misericordia per riparare per chiedere il regno della divina volontà abbiamo visto qual è la gamma molteplice di atti che possiamo fare ecco quindi questo fonderci nell'umanità di Gesù ci sigilla in lui e possiamo dire nella misura in cui sappiamo cosa succede nella misura in cui sappiamo che Dio lo vuole nella misura in cui crediamo che io lo posso che noi lo possiamo ricevere nella misura in cui noi lo vogliamo non sono io più che vivo ma Cristo vive in me tramite la sua grazia no tramite non solo tramite la sua volontà operante di modo che questi atti non sono più umani cioè sono umani perché compiuti in una umanità ma sono atti divini in virtù di cosa della volontà divina operante nella creatura niente meno di questo quindi l'importanza di questo atto preventivo poi non so voi ma durante la giornata cominciano a sfuggire gli atti dice Gesù l'atto preventivo è quando al sorgere del giorno l'anima decide e conferma non dice una schiera di preghiere che l'anima deve dire queste preghiere questi atti questa diciamo questo sminuzzare serve a noi per farci capire cosa stiamo facendo ma l'importante è che l'anima decide e confermi che vuole vivere operare sempre solo e soltanto in questa giornata non domani oggi dacci oggi il nostro pane quotidiano l'anima non lo fa una volta per tutte l'anima lo fa istante per istante giorno per giorno nella divina volontà non capitalizziamo niente non abbiamo il grano nei silos ci abbiamo una divina volontà che istante per istante dice Luisa io non voglio niente dammi tu quello che mi serve momento per momento somministrami tu somministrami tu l'atto che mi serve e quest'atto ce lo somministra lo Spirito Santo è per lui che possiamo comprendere è per lui che possiamo dire Gesù Cristo nostra vita figlio di Dio è per lui che possiamo dire Abba Padre questa è l'opera dello Spirito Santo si potrebbe dire il grande innominato negli scritti ma proprio perché è lui che opera questi scritti sono lo Spirito Santo in opera sono l'opera sua dove lui si mette in mostre da sfoggio di tutto il suo amore allora dicevamo comincia a sfuggire qualcosina è il primo squillo del telefono oppure la fretta oppure l'autobus oppure quanti doveri abbiamo viviamo una vita con tanti obblighi con tante circostanze esterne ciascuno nel proprio posto il fiore fa il fiore il sole fa il sole la pietra fa la pietra e ogni cosa creata dice ma qual è il Dio che ti ha creato è lo stesso allora tutti diamo nella stessa misura gloria a Dio l'importante è che rimaniamo nel nostro posto allora quale che sia il nostro ufficio attivo contemplativo professionale disoccupato quale che siano le caratteristiche della nostra vita esterna che siamo nella sofferenza che siamo in una gioia inspiegabile tutto è volontà di Dio l'importante è che restiamo nel nostro posto questa è la garanzia che siamo luce e supporto per tutti gli altri uffici se volessi fare quello che fa Salvatore causerei un cataclisma perché uscirei dall'orbita della divina volontà per me io stellina e voglio interferire nell'orbita di un'altra creatura per mettermi a fare il suo ufficio cataclisma eh cosa succederebbe nell'universo se una stella volesse fare la traiettoria di un'altra crollerebbe tutto tutte le leggi della natura ecco si ribellerebbero però nella misura in cui io sto al mio posto e faccio il poco e il nulla esterno allora in quel momento io sono sicura che sto partecipando e contribuendo anche agli atti di tutti gli altri e non solo sono supporto e luce per gli atti di tutti gli altri com'è bello stare nascosti e fare tutto nessuno ti vede ma il cielo guarda e sa e ti vede in ogni atto e dice ma questa figlia mia adesso lo vi sta lì e sta pure sta nel sole sta nella luna sta nelle stelle sta nell'immacolato concepimento di Maria sta nell'atto della mia incarnazione sta nella celebrazione della santa messa sta nella nell'atto della della istituzione dell'Eucharistia dovunque dov'è sta figlia mia girata per tutto dovunque è la mia volontà lei è presente ecco nel corso della giornata continuiamo a chiedere se ci sembra l'infantile allora chiamiamo pure Dio infantile chiamare la divina volontà in tutti i nostri atti il più ecco l'attenzione non è mai troppa e allora continuiamo a fare questi atti attuali perché Gesù dice sì l'atto preventivo ti mette al sicuro però poi nel corso della giornata che cosa succede la stima propria la debolezza la vanagloria l'umana volontà la povera natura umana i difettucci sono come delle nubi che coprono il sole che era sorto nell'anima allora che cosa abbiamo a disposizione un altro atto un'altra serie di atti l'atto attuale l'atto attuale è quello che facciamo in ogni istante che va a confermare il preventivo lo va ad espandere e funge come un vento meraviglioso ci sono nuvole fugate immediatamente e fa sorgere altri soli uno più bello dell'altro ancora più splendenti in cui si forma la mia vita entrambi figlia mia sono necessari l'atto preventivo pone la base dà la mano alla creatura l'atto attuale conferma cioè l'atto gli atti attuali tanti quanti sono gli istanti in cui ci ricordiamo di farlo l'atto attuale conferma ed espande il piano del preventivo allora questo sempre per restare nella dimensione di rimanere dentro l'umanità di Gesù e di convincerci che la nostra vita di per sé è finita è la vita di Gesù che continua in noi allora tutto quello che facciamo dice Gesù tutto quello che ci succede convinciti che non sei tu sono io Gesù mi sento fredda no 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 basta pensare a come mi sento come non mi sento questa introspezione sui nostri feelings no 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 allora ogni ogni circostanza interna e esterna è un'opportunità per dire Gesù vedi tu ti sei sentito così riluttante nel camminare in mezzo ai peccatori eppure sei andato ti sei effuso ti sei dato questa riluttanza che provo adesso a fare questa cosa a dire questa preghiera ad operare questo questo ufficio è la tua Gesù allora convinciamoci che non siamo noi più a vivere ma è Gesù che vive in noi nella misura in cui noi ci convinciamo e ci crediamo questo è e quando cadiamo subito ci possiamo rialzare senza dire ah ecco no no subito immediatamente perché? perché è volontà di Dio nella volontà di Dio c'è subito trovo nella volontà di Dio l'atto della grazia l'atto del ravvedimento dove sta questo atto se non l'ha fatto Gesù l'ha fatto per tutti lui si è sentito si è fatto peccato pur non essendo peccato lui ha sentito la colpa di ogni creatura come sua pur essendo innocente questa pena è incomprensibile a mente umana quindi in questa stessa divina volontà anche se abbiamo fatto la scappatella immediatamente ritroviamo il ravvedimento il pentimento e diciamo Gesù vieni tu a sostituire ti chiedo per noi Gesù dice sì sì andiamo avanti non pensare al passato non ti guardare indietro non ti analizzare e ostende te sacerdoti corri al sacerdote per il sacramento della confessione come il lebroso che è stato curato dice vai vai adesso mostrati al sacerdote per ristabilire la tua armonia con tutta la santa chiesa universale io ti perdono ma fatti perdonare nella santa chiesa con il sacramento della santa confessione allora detto questo ecco abbiamo esaurito il problema della nostra vita quotidiana chiamare sempre Gesù rinnovare quest'atta attuale e quando dice oh anima che vivi nel mio volere per te tutto si compie tu sei lo scopo della creazione il compimento della redenzione l'onore e la gloria di tutte le mie opere e se tu per debolezza mancassi io per onore e gloria della mia volontà ti supplirò in tutto e quindi e quindi mea colpa non ce lo possiamo permettere basta finito lo volevo leggere un'altra occasione però lo faccio adesso dato che forse abbiamo un po' più di tempo così almeno vale una volta per tutte me la passo afflittissima dice Luisa per i modi che il mio sempre amabile Gesù tiene con me ma rassegnata al suo santissimo volere se mi lamento con Gesù delle sue privazioni del suo silenzio delle mie miserie lui mi dice lui mi dice non è tempo di badare a questo queste sono bambinate e di anime molto deboli che badano a se stesse e non a me che pensano a quello che sentono e non a quello che conviene loro fare queste anime mi puzzano d'umano e non mi posso fidare di loro da te anima che vuoi vivere nella mia volontà non mi aspetto questo voglio l'eroismo delle anime che dimenticandosi di se stesse badano solo a me e unite con me si occupano della salvezza dei miei figli H24 711 questo è l'ufficio dell'anima allora se ci viene quando ci viene e ci verrà e mi viene la tentazione di ecco pensare a batterci per le nostre miserie e pensare che non è per noi che non ce la facciamo che io non ho letto abbastanza gli scritti che così è che quella dice no basta bambinate credi che ti voglio dare questo dono e unisciti a me per operare insieme con me l'atto più piccolo è reso eterno onnipotente non dalla tua capacità ma dalla mia volontà che opera in te questo era il volume 11 8 febbraio 1915 allora esauriamo almeno per questi diciamo giorni il tema della disposizione dell'anima e adesso continuiamo con l'altra dimensione in cui Gesù dice sì chiama la mia volontà non ti negherà mai il suo atto vivi dentro la mia umanità ma la mia umanità in sé è piccola in confronto alla divina volontà abbiamo letto prima perché la mia volontà ha per centro la mia umanità e chi vive in essa vive in questo centro l'abbiamo letto prima in cappella immaginiamo che la divina volontà sia un contenitore incommensurabile infinito e il centro di questa sfera sia l'umanità di Gesù a volte lui si diceva ma anche la tua umanità mi pare piccina in confronto alla divina volontà certo è il centro allora stiamo in questo centro attaccati a Gesù e poi Gesù a volte inizierà a fare come faceva con Luisa deve eclissarsi altrimenti stiamo attaccati alla veste di Gesù e chi lo lascia chi lo molla allora Gesù si eclissava era troppa la luce all'interno di questa sfera di luce si eclissava anche se Luisa era in Gesù lui lei non lo vedeva non lo sentiva più e diceva privazione sono priva dell'amato mio e Gesù doveva farlo per lanciarla a volo come dire doveva dire al bimbo dai muovi i primi passi guarda che cosa c'è nella mia volontà gira vai cammina vai a scoprire che cosa c'è entra nell'atto all'intra della Santissima Trinità entra in tutti gli atti della creazione abbiamo fatto quel cenno ieri no? quell'escursus entra anche in quello che la mia divina volontà ha operato nei profeti nei patriarchi dell'Antico Testamento entra in tutti gli atti che la mia divina volontà ha fatto in Maria Santissima nella creazione dell'uomo anche per fare compagnia per metterci un tiamo l'abbiamo visto no? la serie di atti che possiamo fare e Luisa trovava sollievo alla pena atroce della privazione di Gesù solo e soltanto girando negli atti della divina volontà quindi Gesù l'ha proprio incastrata lui si ecclessava l'unico modo per Luisa per ritrovarlo era quella di girare negli atti della divina volontà perché è Gesù che concorre il verbo concorre a tutti questi atti insieme col Padre e con lo Spirito Luisa entra anche nell'ordine della grazia in tutti gli atti dello Spirito Santo in ogni sacramento che viene impartito in ogni messa che viene celebrata anzi non la sente la messa la celebra perché è unita in Gesù ovviamente il ministro ordinato celebra in persona a Cristi ma che cos'è che istituisce l'Eucaristia? è la volontà di Dio se stiamo in questa volontà partecipiamo a questo atto con Maria Santissima e allora adesso continuiamo a slanciarci negli atti ci facciamo sempre aiutare dalla mamma perché senza della mamma non si va da nessuna parte e allora girare negli atti della divina volontà abbiamo visto questo ipotetico infinito rosario per rosario intendiamo una catena di atti perché il rosario è stato dato per questo scopo da nostra madre santissima ai domenicani e tanti libri sono stati scritti su questa devozione su come evitare la distrazione su come pregarlo adesso comprendiamo che cosa anche il santo rosario può dispiegare lo scopo per cui ci è stato donato essere una catena per cui noi che viviamo nello spazio e nel tempo abbiamo bisogno di atti sequenziali ci attacchiamo a questi grani uno per uno passiamo atto dopo atto e anche il santo Giovanni Paolo II illuminato ha detto vedete il rosario si espande ci sono anche gli atti luminosi e ci ha introdotto gli atti luminosi ma il rosario cioè il giro nella divina volontà e voglio dire lo possiamo estendere a tutti gli atti c'è un ecco dalla creazione all'antico testamento gli atti di Maria Santissima oggi ci soffermeremo su questa quarta parte atti di Gesù un verbo incarnato la sua incarnazione e la sua vita nascosta poi c'è anche la sua vita pubblica la sua passione morte e risurrezione in ogni caso come la sovrana signora vinse il suo creatore ed inanellandolo con le sue catene d'amore lo tirò dal cielo in terra per fargli formare il regno della redenzione così periodi lunghissimi di Luisa ma così la corona dolce e potente del Santo Rosario la farà di nuovo vittoriosa e trionfatrice presso la divinità nostra Madre Santissima di conquistare il regno del Fiat Divino per farlo venire in mezzo alle creature e allora il Santo Rosario diventi per noi lo strumento per girare negli atti lo possiamo utilizzare come strumento ecco mettendoci a volo in questi atti oggi vogliamo entrare nell'atto più importante nell'atto primario che è l'atto della incarnazione del Verbo quando festeggiamo l'incarnazione del Verbo non faccio domandine quiz è una domanda che mi pongo io stessa nella Santa Chiesa c'è la solennità della annunciazione questo 25 9 mesi prima del Natale il 25 di Marzo e questa questa solennità a volte ecco non l'abbiamo compresa tanto bene a volte sembra che celebriamo l'angelo a volte si pensa all'angelo a volte a volte si celebriamo il Fiat di Maria ma questo è l'atto è l'atto in cui Dio squarcia l'eternità ed entra nel tempo è l'atto primario la condizione senza della quale nulla esiste allora entriamo nell'atto dell'incarnazione del Verbo non ne stiamo parlando non stiamo catechizzando stiamo entrando in questo atto questo atto è depositato pullulante vivente nella divina volontà in virtù della divina volontà che opera in noi noi possiamo entrare in questo atto che è vita e diventa vita nostra quest'atto è atto primo ecco vediamo le caratteristiche della incarnazione del Verbo vediamo come questo atto è il primo atto della divina volontà è l'atto centrale e anche l'atto necessario ieri nell'omelia abbiamo ascoltato come Gesù è l'alpe l'omega lui è l'alfa è l'inizio è la fine è tutto quello che c'è nel mezzo in lui siamo per lui tutto è stato creato lui è il redentore ma è anche e soprattutto il divinizzatore il glorificatore di tutti i nostri atti delle nostre vite in lui è contenuta la versione compiuta perfetta divinizzata della nostra vita allora atto primo nella parte sinistra c'è la scrittura nella parte destra gli scritti di Luisa la scrittura parte dal principio no al principio era il verbo e il verbo era presso Dio e il verbo era Dio l'aquila Giovanni l'evangelista che vola come un'aquila lui parte dall'atto della santità dal decreto della incarnazione del verbo perché il verbo si chiama verbo dice al principio c'era la seconda persona della santissima trinità perché lo chiama verbo perché necessariamente dice Luisa Gesù a Luisa il verbo verbum significa manifestazione comunicazione unione divina all'umano pertanto per definizione la seconda persona della santissima trinità verbo è uno che comunica che manifesta Dio al creato e quindi è il primo atto nei Colossesi leggiamo egli San Paolo dice egli e parla di Gesù è l'immagine del Dio invisibile chiaro Gesù Cristo è la rivelazione del padre generato prima di ogni creatura egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in lui quindi l'atto della incarnazione del verbo è assieme all'atto della generazione del verbo atto primo il verbo generato nella santissima trinità ed è l'atto ad intra della santissima trinità e questo verbo si incarna questo verbo generato e decretato si incarna per poter formare l'immagine della santissima trinità fuori di se stessa così che Dio possa ricevere Dio dal suo creato e questo lo fa tramite il suo verbo in che si incarna per questo possiamo capire come insieme al decreto eterno dell'incarnazione del verbo primo atto primo è dove si incarna il concepimento di Maria Santissima lei è uno con l'anello questo anello di congiunzione tra l'umano e il divino è Gesù ma nostra madre santissima è uno in questo atto in questo anello di congiunzione egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in lui poi leggiamo anche negli scritti il primo anello che congiunse il vero vivere nel mio volere fu la mia umanità il vivere nel divino volere è in Gesù è il primo anello di congiunzione tra l'umano tra il divino e l'umano è in lui che si compie tutta la creazione adesso Gesù vuole che si compia anche in noi vuole che ci andiamo a prendere dentro di lui tutti gli atti che in lui sono depositati tu devi sapere che la mia divina volontà ebbe il suo atto primo nel concepimento di me verbo eterno allora questa incarnazione del verbo diventa per noi l'atto primo della nostra vita è l'atto primario il primo atto se ci fondiamo nell'umanità di Gesù è proprio perché in lui troviamo tutti i nostri atti in lui che è il primo genito di tutta la creazione è per lui che siamo creati e in lui troviamo tutti i nostri atti anche se nel corso della storia e del tempo questo atto primo nella divina volontà si è manifestato nel tempo ad un certo punto della storia però nella volontà divina in cui tutto è contenuto è l'atto primo atto primario atto senza il quale non ecco è bello vedere come nell'architettura sublime degli scritti di Luisa anche Gesù con Luisa comincia dal principio come cominciano gli scritti di Luisa dopo le sue preghiere aiutami San Giuseppe ci ho avuto l'obbedienza di scrivere come devo fare la mia reluttanza sono come montagne insormontabili ma fiat 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 io ho la prima elementare non so scrivere va bene lo faccio e poi dice incomincio incomincio il principio il principio abbiamo visto nel Vangelo di Giovanni in principio era il verbo il verbo presso Dio e il verbo era Dio il principio della Genesi al principio quando Dio creò il cielo e la terra lo spirito alleggiava sulle acque il principio negli scritti di Luisa con una novena del Santo Natale circa l'età di 17 anni mi preparai alla festa del Santo Natale praticando diversi atti di virtù e mortificazione specialmente onorando i nove mesi che Gesù stette nel seno materno con nove ore di meditazione al giorno appartenenti sempre al mistero della incarnazione è così che comincia Luisa la Gerusalemme celeste che è questa struttura sapientissima perfetta della dottrina celeste del regno della divina volontà ha le sue fondamenta nella sulla incarnazione del verbo il principio per questo per questo anche noi dobbiamo avere una riverenza esagerata una riverenza assoluta nel maneggiare gli scritti lui diceva questo l'ho preso dal 12 questo dal 36 attenzione è un cammino lunghissimo è un cammino che va da principio a principio è una pedagogia divina che ha una sapienza imperscrutabile pare che Gesù negli scritti parli di qualcosa poi il passo dopo c'è un altro allora lui mette il seme di una verità poi parla di qualcos'altro poi dà un'altra lezione poi quando il tempo è opportuno riprende quella verità e lui addirittura dice ecco i primi dieci volumi sono lo specchio divino qualcuno mi diceva nel volume 7 dice ecco con questi primi volumi questo lo dice nel volume 7 non fa schematizzazioni ma più o meno lo possiamo dire noi ecco presenta la perfezione delle virtù cristiane con le virtù che sono degli attributi viventi dell'umanità di Gesù la signora l'obbedienza Luisa parla con l'umiltà con l'obbedienza con tutte quante le virtù con la carità ecco il volume 10 si conclude con adesso voglio la tua consumazione in me la consumazione del tuo essere in me ok Luisa è completamente consumata Luisa ha dato la sua vita ed è pronta a soffrire qualsiasi cosa Gesù voglia per i suoi fratelli inizia il volume 11 con il buongiorno e l'addio a Gesù sacramentato ma poi che cosa succede Gesù comincia a cambiare le carte in tavola e dice ma come è possibile tu mi hai fatto amare il patire la croce tanto che io potevo stare senza di te ma senza della croce non ci potevo stare adesso tutto sparito mi trovo qua nel letto nel mio stato senza neanche trovarmi nel mio solo il solito stato di Luisa era lo stato in cui il suo spirito era ecco fuori dal suo corpo e lì soffriva spiritualmente misticamente poi quando rientrava con la benedizione del sacerdote queste pene dello spirito si comunicavano anche al corpo e lì soffriva crocifissioni flagellazioni ecco beveva al calice amaro di Gesù quante volte Gesù e Luisa parla di questo calice stomachevole che lei è pronta a bere dice non ce la faccio dice poi ma vabbè per te me lo bevo a un certo punto si trova dice ma tutto è sparito sto qua nel letto e la mente mi dice strigati che fai? scendi? scendi alla chiesa che fai? stai a perdere tempo allora Gesù dice ecco le manifesta pian piano la sua missione resta nell'obbedienza non importa quello che tu per questo li ha messo la santa chiesa ad assisterla tramite il sacerdote che è il custode il depositario e l'assistente non tanto il direttore il custode il depositario e l'assistente così come mise san Giovanni accanto a Maria Santissima ha messo e se ne sono avvicendati 5 nel corso della vita di Luisa ordinari più uno straordinario santa Annibela che faceva la spoletta tra Oria Messina Roma Corato sempre il sacerdote la presenza della santa chiesa e soltanto al comando del sacerdote della divina volontà nel sacerdote la mattina andava il sacerdote da Luisa che si trovava in questo strato di quasi rigor mortis Luisa per il Dio Santo potente eterno svegliati e lei ritornava in se stessa e doveva offrire questa estrema mortificazione e diceva Gesù queste cose mie non potevano restare tra me ecco caratteristica dell'anima mistica dell'anima che vive nella divina volontà che vuole vivere nella divina volontà la modestia spirituale il nascondimento non le trombe Gesù mi ha detto questo lo pubblico domani su internet ecco per lei aveva questa questa mortificazione dice ma non poteva restare tutto tra me e te Gesù dice no perché è depositato nella Santa Chiesa non è solo per te tu sei la capostivite di un regno a volte Gesù dice quante crocifissioni vuoi tutte le pene che vuoi ma toglimi questa cosa qua che tu lo sai che cosa voglio dire e qual è sta cosa toglimi il fatto che deve venire il sacerdote no Gesù non l'ha mai concesso perché Luisa è figlia della Chiesa e ci vuole sempre la presenza della Santa Chiesa a testimoniare a ricevere queste tesorie infatti il tesoro è custodito nella Chiesa dicevamo a colazione gli iscritti prima che venissero fuori proprio tramite questa circostanza che ha utilizzato Gesù della cosiddetta condanna però proprio per la gloria sua ha fatto in modo che gli iscritti originali stessero per anni ad anni dove conservati sotto la tomba di Pietro negli archivi del Vaticano allora tutto serve a gloria di Dio pertanto lui si accomincia dal principio e questo è l'atto primo anche la Chiesa ci porta in quest'atto primo ogni giorno quando recitiamo l'Angelus a mezzogiorno ecco noi pensiamo adesso è l'ora dell'Angelus adesso con questa conoscenza con questa consapevolezza diceva vedi che grande opportunità grazie Madre Chiesa che mi chiami ad entrare nell'atto primo della Divina Volontà d'Extra l'Angelo del Signore Maria and she can see by the power of the Holy Spirit verbum caro il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi siamo entriamo nell'atto dell'incarnazione del verbo dice Luisa quando scrivono le lettere ma la Chiesa anche se non lo dice a parole già fa tutto dice ma il regno della Divina Volontà sarà Federico Abre dice sarà questo trionfo del Sacro Cuore di Gesù la Chiesa anche se adesso per farci comprendere Gesù si è manifestato il cuore perché noi identifichiamo il cuore con l'amore la misericordia il bene se parlava di volontà non avremmo capito ecco così come pure non è certo parlato della sua incarnazione della Santissima Quaristia d'Abramo allora tutto nei tempi dice popolo fuore il cuore se non avesse una volontà che farebbe il cuore è un muscolo però il cuore ama perché la volontà l'amore è un atto di volontà per cui certo il trionfo il regno della Divina volontà è il trionfo del Sacro Cuore di Gesù e del Cuore Immagolato di Maria è il compimento di tutte le devozioni solo che nel corso dei secoli nel corso degli anni pian piano c'è stato sminuzzato c'è stato dato con questo linguaggio che potevamo comprendere adesso Gesù lo dispiega il primo anello che congiunse il vero vivere nel mio volere fu la mia umanità la mia umanità immedesimata con la mia divinità nuotava nel volere eterno e andava rintracciando tutti gli atti delle creature per farli suoi per dare al Padre da parte delle creature una gloria divina e portare a tutti gli atti delle creature il valore l'amore il bacio del volere eterno e quindi questo è l'atto primo della Divina volontà l'incarnazione del verbo cronologicamente non è il primo atto nello svolgimento della storia ma è atto primo è il primo atto non solo è un atto primo ma è anche un atto centrale sta all'inizio Gesù è l'alfa ma sta anche nel mezzo perché il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi nel mezzo dei secoli nel mezzo delle generazioni nel mezzo del mappamondo nel mezzo della storia nel mezzo della nostra vita e quindi lui è l'alfa e tutto quello che procede alfa beta gamma lambda per chi conosce l'alfabeto greco e tutte le lettere tra l'alfa e l'omega e gli scritti di Luisa fanno eco a questo perché Gesù l'umanità di nostro Signore fu vincolo di tempi rimedio e modello è venuto nei tempi in mezzo ai tempi per vincolarli tutti per legarli tutti in un solo punto in lui la storia si compie lui che riconcilia e riconduce tutto a sé ed in sé e ha scelto di venire proprio nel mezzo in un paesino sperduto in una certa data perché il verbo ha preso carne e con la carne ha preso la storia il tempo lo spazio quindi l'incarnazione del verbo è atto primo è atto centrale così si trovava in me la volontà divina come centro nella sfera della mia umanità l'abbiamo letto stamattina in una citazione con le nostre preghiere e dalla mia sfera partiva la luce a tutti e dovunque quindi il centro è il verbo incarnato ecco questo è atto primo primo atto l'incarnazione per questo perché stiamo perché stiamo entrando in queste verità per comprendere per abbracciare per internalizzare questa verità e per comprendere come è assolutamente necessario per noi entrare in questo atto infatti questo è un atto primo è un atto centrale è anche un atto assolutamente necessario tant'è vero che tutte le cose sono state create San Paolo nei Colossesi per mezzo di lui e in vista di lui cioè senza l'incarnazione del verbo sebbene Gesù si è incarnato in un tempo al centro nel mezzo della storia ma non c'era ragione di creare nulla in vista di lui e per lui tutto è stato creato quindi è un atto necessario poi c'è un'espressione che recitiamo almeno di domenica nel credo nel credo uniceno quando dicevamo per noi e per la nostra salvezza discese dal cielo mi viene a pensare ma perché per noi e per la nostra salvezza per la nostra salvezza ho capito la redenzione ma senza peccato originale per noi cioè il verbo si incarna e senza la sua incarnazione non soltanto noi non siamo redenti noi non siamo la Chiesa conosce diciamo noi diciamo ecco vediamo il Cristo crocifisso il primo impatto con Gesù il Gesù redentore ma ben poco sappiamo del Cristo glorificatore divinizzatore tant'è vero che se anche il peccato non fosse stato commesso il peccato originale comunque doveva incarnarsi a volte noi magari possiamo interpretare in modo incompleto la espressione felice colpa che dice felice colpa sì perché per la colpa è venuto si è incarnato no per la colpa è venuto a redimerci per la colpa ha utilizzato il dolore la passione Dio ha manifestato se stesso in una maniera ancora più folle con il suo amore penante felice colpa addirittura un Dio che dice noi diciamo felice colpa perché questa colpa ha dato l'opportunità a un Dio di manifestarsi non soltanto con l'amore celebrante di tutta la creazione festoso ma con un amore penante quando veramente dice questa persona mi ama si mi ha regalato una torta ma se questa persona soffre per me altro che torta se il verbo questo volume 25 se il verbo non prendesse carne Gesù non parla al passo non avesse preso carne no tutto è depositato nella divina volontà se il verbo non prendesse carne non c'era via di mezzo come poter unire Dio e l'uomo quindi non c'era via di mezzo non soltanto per redimere ma per unire l'uomo e Dio Adamo non avrebbe avuto la possibilità Adamo innocente di compiere nessun atto non sarebbe neanche stato creato non avrebbe potuto vivere nella divina volontà perché anche gli atti di Adamo innocenti stanno fatti in Cristo Gesù è con lui che passeggiava al fresco della sera dal verbo incarnato conosceva la missione di glorificatore di divinizzatore di lui non conosceva la missione di redentore ovviamente però Dio aveva già il piano B aveva pronta questa missione dice perché Adamo non lo conosceva perché altrimenti avrebbe potuto dire ah vedi magari mi rilasso un pochino tanto lui supplisce a tutto oppure secondo me è una ragione ancora più bella Adamo così puro così innocente così bello al solo vedere un flash del verbo umanato del suo Dio con cui passeggiava coperto di di obrobrio di pene cosa lui completamente sconosciuta la sofferenza il dolore pensiamo ad Adamo innocente si sarebbe spaventato non avrebbe potuto comprendere poverino Adamo innocente non conosceva non aveva giustamente bisogno di conoscere il Dio redentore ma conosceva il Dio incarnato glorificatore infatti prendeva i suoi atti dalla matrice degli atti che stavano fatti nel verbo incarnato Adamo è stato fatto ad immagine e somiglianza del verbo incarnato perché l'anima è a somiglianza dello spirito diciamo di Dio l'intelletto la memoria e la volontà ma il corpo di Adamo ad immagine e somiglianza di chi? del corpo di Gesù è bello non è tanto forse perché magari ecco non è scontato diciamo con queste verità tutto adesso ci sembra così lampante così ovvio così semplice perché Dio opera in un modo così cristallino non è non trae in inganno non dice adesso vediamo se capite questa cosa adesso vediamo se se tu teologo riesci a comprendere che cosa avrei fatto se il peccato originale non si può non amare no il modo di operare di Dio è semplice è cristallino è palese e in virtù di queste verità ne vediamo tutta la necessità come facciamo noi a vivere nella divina volontà se il verbo non si incarna se il verbo non si incarna non soltanto noi non siamo salvati ma noi non siamo questo per farci comprendere l'importanza di questo atto la primarietà la centralità e la necessità di questo atto espando quello che hai citato nell'ultima riga in basso a destra del volume 25 se Adamo non avesse peccato l'eterno verbo che è la stessa volontà del Padre Celeste doveva venire sulla terra glorioso trionfante e dominatore accompagnato visibilmente dal suo esercito evangelico che tutti dovevano vedere la scena sarebbe stata diversa non ci sarebbe stato il vincolo del tempo dello spazio e con lo splendore della sua gloria doveva affascinare tutti e attirare tutti a sé con la sua bellezza un verbo che si incarna in Maria coronato da re e con lo scettro del comando per essere re e capo dell'umana famiglia in modo da dare a noi l'onore di poter dire teniamo un re uomo e Dio wow teniamo un re uomo e dove è il peccato teniamo un re uomo e Dio senti mia piccola neonata della mia divina volontà se l'uomo non avesse peccato se non si fosse sottratto alla mia divina volontà io sarei venuto sulla terra ma sai come? non piangente sudando penando circonciso quante cose si è dovuto assoggettare già da la prima sua nascita pieno di maestà come quando risuscitai da morte che sebbene avessi la mia umanità simile all'uomo unita all'eterno verbo ma con quale diversità la mia umanità risuscitata era glorificata vestita di luce non soggetta né a patire né a morire ero il divino trionfatore allora il vivere nella divina volontà è proprio passare per il mar rosso delle piaghe delle piaghe di Gesù perché senza la redenzione è quello il primo contatto se non siamo purificati se non siamo salvati se non accettiamo la redenzione se non ci inginocchiamo di fronte al Cristo crocifisso come possiamo entrare in lui il mar rosso nella storia diciamo degli ebrei che è una storia storica sono eventi storici ma non sono altro che atti della divina volontà che non mi piace simbolizzano prefigurano no non sono belli questi termini me ne manca uno attualizzano nella storia con l'immagine del popolo quello che fa il verbo allora Israele che vuol dire lotta con Dio è l'umana volontà Israele il popolo di Israele sono io sei tu Israele è l'umana volontà Israele alla fine si arrenderà riceverà come dicevamo ieri con Salvatore e Tiziano riceverà grata riceverà avendo dato il redentore a Roma sarà ricambiata del favore e da Roma riceverà il regno della divina volontà allora Israele lotta con Dio l'umana volontà io tu il popolo di Israele se vuoi nella storia passa per il mar rosso deve passare necessariamente per la redenzione per le piaghe per il sangue per la passione di Cristo per entrare dove nella terra promessa la terra promessa è la divinità di Gesù all'interno della sua umanità mar rosso di sangue e in questa sua divinità in cui opera la sua divina volontà che cosa troviamo? fiumi di latte e miele non mi risulta che in Palestina in Judea ci siano questi tipi di corsi d'acqua anche non so dice l'ufficiale dice non ci sono questi che io devo andarmi a bagnare nel Giordano non c'erano questi fiumi anche a Damasco dice ma fai quello che ti dice il profeta la volontà di Dio ci chiede cose semplici per fare prodigi grandi i fiumi di latte e miele non sono effettivo latte e miele nel Giordano ma sono che cosa dice Gesù il miele è la dolcenza della mia umanità il latte è la pace della mia umanità lui è il principe della pace e allora attraverso il mar rosso che vuol dire ricevere prima e necessariamente i frutti della redenzione che per primi Gesù per prima Gesù ha dovuto manifestare ricevuti i frutti della redenzione io non so se li ho ricevuti appieno i frutti della redenzione li devo ricevere costantemente quanto quanto mi avvalgo quanto utilizzo tutto ciò che il Signore ha depositato nella Santa Chiesa tramite i sacramenti quanto ricevo il frutto dei sacramenti ecco ricevendo quanti popoli ci sono ancora nel mondo in cui bisogna ancora evangelizzare il Cristo non è ancora conosciuto e quindi la redenzione deve ancora portare i primi frutti ecco però Gesù si porta avanti con Luisa come leggevamo ieri diceva ieri il padre dell'omeria lascia da parte la terra fagli fare le loro guerre e te dobbiamo preparare una cosa importante gliela facciamo trovare pronta e se la prenderanno a via di giustizia ma meglio a via d'amore allora atto primo atto centrale atto necessario ecco quindi in questo nostro rosario immaginario abbiamo preso in prestito il primo grano perché faremo dieci atti oggi insieme ci facciamo aiutare dalla mamma e dice mamma ci abbiamo poco tempo dice così in quattro meditazioni ci sminuzziamo dieci atti della vita nascosta di Gesù e della sua incarnazione il primo qual è? il primo l'incarnazione del verbo però questo grano è forte è potente è il primo è il centrale è il necessario si fionda al centro al centro perché da lui dipendono tutti gli altri da lui dipende da quest'atto dipende la creazione da quest'atto dipende la creazione del verbo dell'uomo chiedo scusa da quest'atto dipende tutti i prodigi che la divina volontà ha fatto in Maria Santissima da quest'atto dipende tutto è atto primo centrale e necessario io sono l'alfa e l'omega al principio era il verbo il verbo si fece carne tutte le cose sono state create per lui e in vista di lui abbiamo anche detto come questo atto era necessario anche per Adamo era necessario per Adamo dice Gesù per esempio in Adamo figlia mia Adamo nello stato della sua innocenza possedendo la vita della mia divina volontà possedeva la virtù la vita universale perciò nel suo amore negli atti suoi io trovavo accentrato l'amore di tutto e di tutti lui era il capo della famiglia umana e tutti gli atti erano unificati tutte insieme virgola neppure il mio operato era escluso dal suo c'erano anche gli atti del verbo incarnato quindi io trovavo tutto nell'operato di Adamo trovavo tutte le tinte di bellezza pienezza d'amore maestria inarrivabile e ammirabile e poi tutto e tutti che bello nostro padre Adamo qui dovremmo aprire un'altra tangente alla che bello il nostro padre Adamo nostro padre bello santo fresco gioioso con questo corpo da corazziere e questo questo volto da angelo che bello nella fresco di Mieri Tiziano ci dilettava con la sua meditazione su come anche l'arte è ispirata da Dio e quindi nella giudizio universale quando vediamo quella fresco della creazione dell'uomo con il dito del padre che incontra il dito di Adamo quello sguardo da bambino quel corpo perfetto Adamo bello fresco santo dolce caro padre Adamo del tutto simile a Gesù del tutto simile a Gesù allora poi sappiamo tra l'altro che Adamo negli scritti di Luisa si fa presente non viene a mancare e lui che a fugare ogni tentazione non dico tentazione ma ogni diciamo possibile dubbio che egli non sia figura storica egli viene a parlare a Luisa e dice finalmente figlia mia finalmente il nostro padre il nostro Dio ottobre 26 1926 volume 20 finalmente figlia mia il nostro Dio e il padre ha chiamato a vita la creatura che doveva continuare lì da dove io ahimè lasciai che bello mi sento ridare tutta la gloria che io negai a me stesso e a Dio per aver compiuto alas la mia umana volontà sappiamo anche dagli scritti che Adamo un peccato fece e poi non peccò più pianse tanto pianse tanto povero Adamo pianse anche per il peccato di suo figlio perché lui peccò contro Dio e poi suo figlio peccò contro il prossimo quindi si è compiuta l'architettura del peccato pianse e non peccò più visse non so 900 anni in questo non è importante addentrarci su quanto visse il padre Adamo però la sua vita lunga è una vita che nel primo stato di innocenza era una vita in cui lui era completamente preso era completamente estasiato viveva nella conoscenza perfetta non nella fede non nei comandi tranne quello della prova non nel sforzo nell'esercizio delle virtù ma viveva nella comunicazione continua dell'atto di Dio e si vedeva inondato tartassato da canali di amore di grazia voleva mangiare una pesca la pesca era buona però riceveva tonnellate di amore di grazia di conoscenza di dolcezza che la divina volontà tiene depositato in quel frutto e così per ogni cosa creata bello santo dolce ad amo innocente quanto ci ama e quanto è contento grazie figli miei grazie che accettate questo dono cosicché possiamo ritornare a quello stato e anch'io posso dare quella gloria a Dio che ahimè ho interrotto con questo mio peccato da allocco perché perché distolse lo sguardo da Dio dice perché ad amo peccò perché volle dimenticarsi che io lo amavo volle dimenticarsi che io lo amavo allora quali sono le potenze che concorrono a questo peccato dimenticarsi la memoria però volontariamente volle la volontà che io lo amavo lo vedeva con l'intelletto non aveva bisogno di fede che Dio lo amasse lo comprendeva lo vedeva quindi l'intelletto e la memoria e la volontà concorrono a questo peccato e poi lui cosa fece ah ascoltò le parole di Eva ad amo e quindi ascoltò anziché dire no un momento e poi distolse lo sguardo da Dio e quindi guardò il frutto quindi l'udito la vista e il gusto e lo assaggiò e gli piangono quindi le tre potenze dell'anima e tutti i sensi sono ingaggiati nel peccato dove finisce l'amore volle dimenticarsi che io lo amavo inizia il peccato se si fosse ricordato che io lo amavo se fosse stato più diciamo lui avrebbe compiuto il primo atto eroico avrebbe compiuto sarebbe uscito vittorioso dalla prova e avrebbe detto alla sua più che sposa compagna discepola bimba Eva che si stava formando perché il peccato originale non è il peccato di Adam e Eva il peccato originale è il peccato di Adamo seppure Eva avesse peccato e Adamo l'avesse corretta il dono della divina volontà sarebbe rimasto integro in lui che è il capostipite della famiglia umana e quindi avrebbe potuto trasmetterlo ad Eva e a tutta la progenie amore mio sinché anche anche le mie lacrime hai versato e anche le lacrime di Adamo ciò che non potete ricevere Adamo con le sue lacrime ad onta che passarono dai miei occhi lo puoi ricevere tu Luisa dopo il peccato il nostro padre Adamo ne perdette il possesso del mio volere e ad onta che pianse la sua colpa e non peccò più potete fare la mia volontà ma non possederla era uscito fuori però i suoi atti rimasero dentro gli atti di Adamo restarono dentro questo è il pegno per questo Dio non esita a promettere il Redentore era compromesso la prima vita di Adamo innocente a atti fatti nella Divina Volontà sono di proprietà della Divina Volontà Adamo è uscito ma i suoi atti restano dentro e questi atti dicono ritorna fammi rientrare venga il tuo regno e lui subito promette il Redentore non poteva possederla perché mancava il divino offeso che doveva formare di nuovo il nuovo innesto divino tra la creatura e il creatore per fare varcare di nuovo le soglie dei possedimenti dell'eterno volere non abbiamo potuto fare a meno di andare a entrare anche negli atti del nostro carissimo padre Adamo perché lo dobbiamo fare spesso allora se pensiamo Adamo oggi senza queste conoscenze già perché porto gli occhiali perché c'è un mal di schiena perché devo morire perché sono stanca colpa di Adamo colpa di Adamo ecco e invece dobbiamo vedere Adamo in un altro modo Adamo bello Adamo santo addirittura Gesù dice i santi in cielo guardano come un match del Roland Garros destra-sinistra destra-sinistra da una parte vedono gli atti di Adamo innocente dice guarda guarda in che stato bellissimo è stata creata la creatura con quale dignità o creatura se sapessi quanto è bella la tua anima quanto di quante qualità divina è arricchita come sei un piccolo dio siete dei figli del dio vivente recita il salvo sei un piccolo dio che possiede tutto e racchiude tutto in sé non macchieresti la tua anima con la minima macchia e quindi i beati vedono la grandezza la perfezione e l'amore tripudiante di questa volontà divina nella creazione dell'uomo poi guardandone ma il compimento in Maria Santissima in lei vedono la volontà divina intatta intatta e compiuta da concepimento ad assunzione ed oltre e Maria Santissima che continua a svolgere il suo compito di regina madre e regina in ogni uno strato lei ha il diritto di regina la regina possiede la regina condivide i possedimenti del re li conosce li amministra la regina manda un suo raggio su ogni atto nostro e dice ci metto io il sugello e poi inizia il suo ufficio materno e ci mette la sua tenerezza lo copre con la sua innocenza lo copre con il suo manto ci mette le sue lacrime ci mette a Gesù Gesù ci penso io Gesù sono io che ti amo in questa creatura Gesù che ti ricevo nell'atto in cui questa creatura ti sta ricevendo nell'eucarestia ricevi da me tutto l'amore allora regina madre e poi prende questo pegno dell'atto della creatura circondato investito completamente trasformato dal suo amore materno dal suo ufficio materno esso lo riporta al cielo davanti al padre e dice vedi io sono madre e regina questi sono figli miei quest'atto porta lo stampo della famiglia divina ecco allora diciamo ancora dobbiamo cominciare cominciamo facciamolo sto primo alto no no stiamo già facendo era per che siamo piccoli non siamo almeno siamo dottori siamo sempliciotti allora primo atto adesso questo grano è ritornato al suo posto perché si mette in fila lui è atto centrale è atto primo è atto necessario si mette al suo posto nella catena e lo facciamo lo prendiamo a nostro ci stiamo dentro allora dice tu devi sapere che la mia divina volontà ebbe il suo atto primo nel concepimento di me verbo eterno e il tuo amore e i tuoi atti ecco qui entra l'anima siamo noi che facciamo qualcosa l'atto di Luisa i tuoi atti sono atti di giustizia e sono necessari per il concepimento della volontà di Dio divina nell'umanità del tuo Gesù perché il primo regno che stendevo fu nella mia umanità non potevo estendere il testo troppo però spieghiamo allora Luisa stava facendo il suo giro nella divina volontà comincia come abbiamo cercato di fare velocissimamente ieri dall'atto ad intra della Santissima Trinità e poi la creazione il cielo la luna le stelle la creazione dell'uomo gli atti di Adamo innocente ripara per la colpa le lacrime di Adamo i profeti dell'Antico Testamento e tutto quanto l'immacolato concepimento di Maria l'alba della redenzione la vita di Maria l'incarnazione del verbo lei fa questo ci arriviamo anche noi e dice onde continuavo a seguire gli atti del supremo volere e giunta al punto quando la sovrana regina concepì nel suo seno purissimo dicevo tra me cioè io ci devo fare qualcosa devo metterci del mio anche io ci devo stare Luisa aveva l'ardire del possesso prendeva possesso di questi atti se ne appropriava l'altezza della mamma celeste somministrò il suo sangue il suo amore la volontà divina che regnava in lei per formare in lei il concepimento del verbo anch'io voglio somministrare il mio amore ci devo mettere del mio in questo atto affinché il verbo si incarni anch'io voglio somministrare il mio amore le mie tene ed il voler divino che regna in me mentre concepisce nel suo seno affinché anch'io ci metto del mio nel concepimento di Gesù in questo concepimento atto primo atto centrale atto eterno si compie solo e soltanto perché nulla si compie senza scopo e senza ottenere i suoi frutti perché questo atto ha già in eterno doveva avere il ricambio della creatura pertanto quest'atto che fa Luisa dice Gesù affinché anch'io ci metto del mio nel concepimento di Gesù per adorare l'eterno Fiat in un atto così grande e anche per fare che avendo dato del mio resti concepito in me non soltanto in Maria Santissima ma mentre facevo questo pensavo tra me sono le mie solite stranezze ma del resto è amore che voglio dare a Gesù e la sua stessa volontà per onore del suo concepimento e Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia sono io che muovo l'animo tuo a fare ciò che voglio e molte volte non ti dico neppure la ragione dice perché non posso fare a meno di entrare in questo atto potremmo dire perché io non posso fare a meno di recitare l'angelo ogni giorno tu devi sapere e qui riprendiamo quello che abbiamo letto che la mia divina volontà ebbe il suo primo atto nel concepimento di me verbo eterno ed il tuo amore quindi l'atto tuo i tuoi atti sono atti di giustizia e sono necessari per il concepimento della volontà di Dio nell'umanità del tuo Gesù mi stai dicendo Gesù che se non faccio questo atto tu non ti incarni allora vediamo come in eterno e nel piano della divina volontà il verbo si incarna perché deve avere già il ricambio di tutte le creature o comunque il ricambio sufficiente il ricambio consono il ricambio giusto in questo ricambio giusto ci sono già ab eterno tutti gli atti delle anime che vivranno nella divina volontà pertanto l'atto che io attualizzo oggi è un atto necessario e di giustizia senza il quale il verbo non si incarna non proviamo a comprenderlo con la nostra ragione ma per dire quanto svibiamo in lui quanto siamo in lui quanto siamo presenti con il nostro ricambio già dall'istante eterno del decreto dell'incarnazione del verbo il verbo non si incarna se non riceve il ricambio completo da tutto il suo creato e da tutta la sua creazione e se io non dovessi fare questo atto vuol dire che qualcuno lo farà al posto mio vuol dire che che il verbo non si incarna per me oh no no perché 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 tenermi fuori allora è un atto necessario è un atto di giustizia quest'atto tuo Luisa sono atti necessari di giustizia per il concepimento della volontà divina nell'umanità del tuo Gesù perché il primo regno che stendeva fu nella mia umanità ora per darti il diritto che potesse regnare in te esigeva con giustizia il tuo amore mentre concepiva nella mia umanità quindi ci sono due dimensioni quest'atto è giusto è necessario per l'onore e la gloria di Dio che si incarna ma è giusto è necessario e per avere un diritto che si incarni in me e io possa ricevere tutto quello che contiene il verbo incarnato cioè la sua divina volontà operante non si prescinde sì che adesso tu non fai altro che dare alla divina volontà i suoi diritti somministrando adesso lo fai adesso ma è scritto in eterno somministrando ciò che ci vuole per farla concepire in te per ricevere i diritti di farle estendere il suo regno e di prendere in mano lo scettro del comando con assoluto dominio ti porta nell'atto quando concepì nel seno materno per farti mettere il tuo amore le tue pene affinché e questa è la dimensione della necessità nella incarnazione affinché non mancasse l'atto tuo in un atto sì grande che dava il principio al regno della divina volontà ed è questa la causa perché in tutti gli atti che io feci stando sulla terra chiamo il tuo amore a vincolarsi a quegli atti ne voglio che te ne sfugga nessuno se non dobbiamo farci sfuggire ecco l'atto della circoncisione l'atto di Gesù che vi vedremo poi oggi o domani se avremo tempo tanti atti della vita nascosta di Gesù a maggior ragione non possiamo farci sfuggire l'atto primo centrale necessario sono diritti di giustizia che esige il mio volere e sono anelli di congiunzione per dare a te il diritto che esso potesse regnare in te perciò segui il tuo Gesù senza darti pensiero e con questo facciamo una pausa se va bene allora signore Gesù vieni tu ci immergiamo nel tuo preziosissimo sangue e lì ti portiamo ogni creatura e ci mettiamo a circolare nel tuo sangue per darti la circolazione della gloria perenne e così che anche con i nostri atti involontari quelli che facciamo come quando dormiamo il respiro il palco la circolazione del sangue vogliamo darti adorazione profonda amore eterno e circolazione della gloria perenne ecco leggevo qualche giorno fa in un volume il 32 dice io do tutto alla mia creatura giungo ad esaurirmi per la mia creatura un Dio che si esaurisce e dice la creatura mi fa eco e anche lei si esaurisce e facciamo gara di esaurirci a vicenda allora diciamo Gesù la sera si avvicina resta con noi esauriamoci a vicenda sembra che la capacità non abbia più spazio per contenere e allora tu ti esaurisci in noi e noi ci riposiamo esauriti in te entriamo in un qualche piccolo atto sempre riposandoci della vita nascosta di Gesù non andiamo anno per anno atto per atto ci vorrebbe troppo prendiamo categorie di atti il primo qual è? è la luce Gesù esce dalla luce Maria e sono una luce e due luci e Maria si trova in grembo il bambino Gesù mentre Giuseppe dorme e custodisce questo mistero allora il primo atto sono le correnti d'amore tra Gesù e Maria ecco mamma siamo tanto stanchi che non abbiamo neanche la forza di dire tutta la Ave Maria pertanto ti diciamo oggi adesso soltanto in questo momento mamma domino stecum possiedi Dio dentro di te e adesso ce l'ha in braccio questa questa mattina dopo aver molto stentato è venuta la regina madre col bambino in braccio e me l'ha data a me dicendomi che lo tenessi con gli atti continui d'amore corteggiato ho fatto per quanto ho potuto e mentre ciò facevo Gesù mi ha detto diletta mia le parole più gradite e che più consolano la mia madre è il dominus stecum perché non appena furono pronunziate dall'arcangelo sentì in sé comunicarsi tutto l'essere divino e quindi si sentì investita del divin potere mamma in questo atto quando tieni Gesù in braccio il Signore è con te dominus stecum te lo ripete ogni tuo figlio ogni creatura dominus stecum sempre riposandoci Gesù figlia mia quando succhiavo il latte dal petto della mia dolcissima madre unito al latte vi succhiavo l'amore del suo cuore ed era più amore che succhiavo che il latte ed io come in quei succhi sentivo dirmi ti amo ti amo figlio io ripetevo a lei ti amo ti amo o mamma o mamma ecco ci mettiamo in queste correnti d'amore corrente di latte e corrente di amore e questo succede e questo succede ad ogni anima quando mi dice ti amo anch'io le ripeto ti amo e con me è tutta la creazione ad amarla nel mio amore oh se le creature comprendessero qual è il bene l'onore che si procurano anche col solo dirvi ti amo basterebbe solo questo che un Dio al loro fianco replica con onorarle col suo anche io ti amo allora mamma santa stanchi e sorriti come siamo ci mettiamo in questo latte che passa tra te e Gesù in queste correnti di amore e andiamo da una parte all'altra e vogliamo noi essere questa corrente d'amore perché così come lo Spirito Santo procede dall'amore tra il Padre e il Figlio sulla Terra a destra dall'amore tra Maria e Gesù procede la procedenza dei figli della Divina Volontà e quindi siamo noi questa corrente d'amore e procediamo e alimentiamo questa corrente d'amore e allora vogliamo come la corrente alternata andare di qua e di là e da una parte vogliamo metterci in Gesù e ricevere la corrente d'amore della mamma la mamma dice tu devi sapere che in tutto ciò che facevo verso del mio figlio intendevo di farlo verso quelle anime che dovevano vivere nella volontà divina perché stando in essa erano disposte a ricevere tutti quegli atti che io facevo verso Gesù e trovavo spazio sufficiente per deporli qui era Luisa che vedeva la mamma celeste col bambino in braccio che se lo baciava e lì dice mamma mia a me niente mi dai allora l'anima si nasconde dentro Gesù per ricevere l'atto materno della mamma dice permettimi almeno che metta il mio ti amo tra la tua bocca e quella di Gesù mentre vi baciate affinché in tutto ciò che fate corra insieme il mio piccolo ti amo e lei figlia mia mettilo pure il tuo piccolo ti amo non solo nella bocca ma in tutti gli atti che passano tra me e mio figlio e allora dentro la divina volontà vogliamo possiamo e vogliamo ricevere tutta la maternità di Maria tutta la sua cura tutto il suo amore materno l'amore sublime che Dio Padre ha deposto in lei e che si chiama amore materno che lei intende dare non solo a Gesù ma a tutte le anime e lo può dare alle anime che stanno nella stessa volontà in cui lei vive altrimenti non abbiamo spazio per riceverlo continueremo a chiedere la grazia l'intercessione andremo a questo santuario quest'altro la mamma così la mamma di Colà questo titolo quest'altro titolo ma questa maternità divina come la facciamo a ricevere? ci dobbiamo mettere nella divina volontà e lei dispiega ci nutre con il suo latte materno ed io mi sentivo felice e onorata con gli onori più grandi dice nostra madre santissima di avere per figli i miei figli della volontà del padre celeste quale anch'io possedevo e perciò li guardavo pure come parti miei frutti del mio grembo perciò figlia mia figli miei se vuoi che ti ripeta ciò che feci a mio figlio fa che ti trovi sempre nella sua volontà e io ti sarò all'arca dei miei favori allora ci mettiamo ci nascondiamo dentro Gesù riceviamo le carezze della mamma l'amore della mamma il latte della mamma l'atto generante della mamma le correnti d'amore della mamma e poi senza farci accorgere dalla mamma da Gesù ci spostiamo alla mamma e che vogliamo fare? vogliamo fare noi un atto materno nei confronti di Gesù Gesù dice quindi vuoi tu essere la mia seconda mamma? vuoi tu ricevere il gran bene della rinnovazione della mia incarnazione come dote del regno del fiat divino? così avrò due mamme la prima che mi fece formare il regno della redenzione la seconda che mi farà formare il regno della mia divina volontà e mettendo le sue piccole manine sul mio volto carezzando mi diceva la mia mamma la mia mamma allora l'anima nostra è mamma di Gesù chi fa la volontà del padre mio mia mamma mia padre mia sorella mio fratello allora Gesù ti voglio fare da mamma madre santissima deponi me tutte le tue cure materne tutto il tuo coraggio nel prenderti cura di un Dio un Dio affidato a una quindicenne una quindicenne che si fa un viaggio sull'asinello da una parte all'altra e Giuseppe le chiede hai freddo stai bene sì sì e poi in questa grotta improbabile luce da luce che coraggio la mamma ma da dove viene sto coraggio dall'amore l'amore bandisce ogni timore e le dice figlio mio non ti preoccupare così dice pure nell'eucaristia così come ti sei affidato a me quando sei nato adesso ecco ti custodisco io nella santissima eucaristia non ti preoccupare ci penso io a tenerti onorato corteggiato protetto abbracciato ci pensa la tua mamma mamma dacci il tuo amore materno il tuo coraggio perché possiamo fare da mamma a Gesù e lui si senta al sicuro nell'anima nostra abbia la sua mamma la mia mamma la mia mamma l'amore materno supera tutti gli amori sicché tu mi amerai con amore di madre insuperabile l'amore materno dice Gesù è amore costante amore di abnegazione amore di disinteresse amore che si contenta di dar la vita pur di morire pur di nutrire e dar la vita al proprio parto questo è l'amore materno amore insuperabile amore che dà il sangue per nutrire il frutto del proprio grembo chi è mamma tra di noi lo sa poi in un altro passo ecco abbiamo ricevuto l'amore materno della mamma e tra l'altro questa non è teoria che andremo ad applicare l'atto lo stiamo facendo adesso mentre ci stiamo riposando quindi pace e tranquillità abbiamo ricevuto l'amore materno di nostra madre santissima in Gesù abbiamo dato a Gesù l'amore materno della mamma e adesso vogliamo amare con amore di madre insuperabile chi non solo Dio che ci ama con quest'amore non solo noi stessi perché siamo amati con tale amore ma essendo amata da Dio con tale amore posso amare i fratelli e dice ah quando regnerà la divina volontà finalmente i miei figli si ameranno tra di loro con amore di madre che bello essere madri l'uno per l'altro gli uni per gli altri l'amore che tutto perdona che tutto scusa che tutto protegge che tutto conquista allora quando la mia volontà regnerà sulla terra nei nostri cuori finalmente anche la carità regnerà sovrana e le creature si ameranno con amore di madre insuperabile perché ciascuna si sentirà giudicata no si sentirà protetta amata da Dio stesso nell'altra creatura ah che bello c'è Dio che mi ama in Daniela in Salvatore che bello non devo non devo temere niente che mi importa mi ama comunque mi ama come una mamma dà la vita per me grazie Gesù grazie Madre Santissima per farci per metterci dentro queste correnti d'amore ricevere l'amore materno della mamma dare Gesù l'amore materno amare noi stessi con amore di madre e amare gli uni gli altri con amore di madre insuperabile sempre riposando entriamo nel prossimo atto categoria di atti della vita nascosta di Gesù che fa Gesù a un certo punto che fa passano già pochi giorni e anzi la sera stessa la notte stessa comincia a manifestarsi allora il prossimo atto lo chiamiamo le sue prime manifestazioni alle creature e qui ce ne mettiamo tre di manifestazioni ai pastori alla presentazione al tempio quando si manifesta e viene riconosciuto da chi? dal vecchio Simeone e da Anna di Farnuele della tribù di Aseri e poi una terza manifestazione i magi le sue prime manifestazioni alle creature ma è un caso che li mettiamo insieme? no vediamo che cosa ci dice questi sono tutti atti di volontà divina tutti questi atti di volontà divina hanno un solo scopo metterci nella divina volontà nutrirci con il cibo della divina volontà e tenerci fissati in questo punto e darci tutte le grazie di cui abbiamo bisogno per rimanere in quel punto quindi c'è un atto di volontà divina chiamato manifestazione ai pastori c'è un atto di volontà divina chiamato presentazione nel tempio la volontà divina fa un atto in Simeone e in Anna di Farnuele c'è un atto di volontà divina chiamato manifestazione ai magi e c'è l'atto di volontà divina nei magi Casper Balthasar e Melchior come si chiamano loro ora questi personaggi tra l'antico e il nuovo testamento il nuovo testamento loro ecco non ricevettero la vita della divina volontà in questi atti perché non la conoscevano però ricevettero perché erano disposti con particolari disposizioni gli effetti della divina volontà e quindi noi adesso facendo questi atti non solo ce li mangiamo e diventano vita nostra ma li facciamo anche per loro li facciamo vita loro li hanno presi come effetti noi prendiamo questo effetto e lo utilizziamo come opportunità per fare un nuovo atto ecco che l'effetto che è opera diventa causa che è vita questo vuol dire girare anche per le altre creature per Simeone per Anna di Fanuele per i pastorelli che si chiamavano non lo so immagino chi non si chiama Isacco Giuda ecco in quelle zone Beniamino Neftali allora in loro riceviamo la divina volontà operante riceviamo la vita di questo atto hanno aspettato duemila anni per ricevere questa gloria questo contento ecco perché queste tre manifestazioni in un volume più avanti nel 28 Gesù dice ogni tanto fa queste schematizzazioni ci sono tre condizioni per questo per questo e per quest'altro e ci dice che cosa serve a che la divina volontà si manifesti alle creature e le creature riconoscano e conoscano le verità del vivere nel vivimvolere tre cose queste cose ce le andiamo a prendere in questo atto qui la prima umiltà guarda un po' chi furono i primi a riconoscere il Messia quei piccoletti ignoranti puzzavano di pecora seconda condizione questo nel volume 28 fede e preghiera incessante io me lo vado a prendere questo atto da Simeone e Anna nel tempio Simeone era un 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 anziano signore un uomo giusto dice la scrittura lo spirito santo era su di lui e lo spirito gli aveva manifestato che non avrebbe conosciuto morte prima di vedere il Messia mosso dallo spirito tre volte lo spirito lo spirito lo spirito mosso dallo spirito nel momento in cui Giuseppe e Maria portavano il bambino nel tempio lui si recò al tempio e poi il resto lo recitiamo ogni sera nella compieta ora signore ditemelo voi terzo miei occhi hanno visto la salvezza la gloria del tuo popolo israele quindi fede preghiera incessante il terzo la terza condizione per conoscere la verità e la divina volontà sono le stesse condizioni nella redenzione le stesse condizioni si ripetono adesso con le verità di vivere e di volere così come furono gli umili quelli che credevano e pregavano incessantemente e quelli che desideravano la verità per seguirla e metterla in pratica immagini a riconoscere il Messia e a loro egli si manipostò per primo così queste stesse tre disposizioni questi stessi tre atti di volontà divina umiltà ossia conoscenza del nostro nulla fede e preghiera incessante e desiderio di conoscere la verità per metterla in pratica sono le tre disposizioni per riconoscere le verità del vivere nel divinvolere prima manifestazione alle creature i pastori Simeone nel tempio e i magi ecco e con loro e con gli angeli cantiamo gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà pace in terra agli uomini di buona volontà una volontà che si arrende e si immerge nella divina i pastori l'umiltà dice Gesù è la sicurezza dei favori celesti l'umiltà veste l'anima di una sicurezza tale in modo che le astuzie del nemico non vi penetrano dentro l'umiltà mette in salvo tutte le grazie celesti tanto che quando veggo l'umiltà abbondantemente vi faccio scorrere qualunque specie di favori celesti perciò non voler disturbarti ma ci diceva padre prima ecco bandiamo tutto ciò che è disturbo e quando ci sentiamo disturbati questo disturbo diamolo pure a Gesù con occhio semplice guarda sempre nel tuo interno se sei investita dalla bella umiltà e di tutto il resto non curarti di niente un altro volume nel volume 13 in realtà con la semantica dovremmo un po' precisare c'è un solo umile Cristo quella che noi chiamiamo umiltà per noi dovrebbe piuttosto chiamarsi conoscenza di noi stessi perché l'umile è colui che è grande possiede tutto è ricco eppure si veste gli stracci si si miserisce accetta le umiliazioni accetta di essere considerato un nulla si fa sputare in faccia si fa schiaffeggiare invece noi dovremmo semplicemente conoscere che già siamo un nulla siamo umus veniamo dalla terra io mi comunico sia agli umili che ai semplici che bello pastorelli venite in nostro soccorso prendiamo insieme quest'atto della santa umiltà della conoscenza del nostro nulla perché subito danno credenza alle mie grazie e le tengono in gran conto ancorché fossero ignoranti e poveri ecco ti pure la causa perché nel corso della mia vita mortale non ci fu neppure un dotto un potente nel mio seguito ma tutti ignoranti e di bassa condizione perché più umili e semplici e anche più facili a fare dei grandi sacrifici per me ecco per noi umiltà deve essere sono niente Dio è tutto non c'è merito nel ricevere la divina volontà ma dice Gesù l'umiltà senza la confidenza è falsa virtù quindi se io dico non sono nulla non sono degno non sono degno non potrò mai perché sono incapace questa è una umiltà questa è superbia immagina se fossimo degni sarebbe una stanza di mostri allora pastorelli Isacco Giuda Beniamino Giacobbe con le pecorelle sulle spalle prendiamo con voi questo atto di volontà divina e lo facciamo nostro perché si attualizzi noi preghiamo la conoscenza del nostro nulla e questo ci consente di conoscere la verità ecco Simeone interessante qui questo passo è preso dalla Vergine Maria nel regno della divina volontà dove parla della presentazione al tempio c'era Simeone abbiamo visto poi c'era Anna di Fanuele della tribù di Aser e lei ecco passava era vedova passava giorno e notte nel tempio e pregava e digiunava quindi fede e preghiera incessante nostra Madre Santissima nell'atto della presentazione al tempio quindi un'altra manifestazione dice entrammo nel tempio e prima adorammo la divina maestà poi si chiamò il sacerdote e messolo nelle sue braccia feci l'offerta del celeste bambino all'eterno padre offrendolo in sacrificio per la salvezza di tutti che è bello pure nel libro della mamma celeste che è un libro di un sussidiario un libro di esercizi che è il piccolo sacrificio il piccolo fioretto che è il nostro compitino dopo la sua lezione e dopo questa lezione noi diciamo madre santissima tu stessa offri il sacrificio della mia volontà al mio creatore insieme a Gesù allora ovviamente c'era il sacerdote di turno per esempio come Zaccaria fai conto che era un altro c'aveva gli zizit le filattiere il pettorale c'era una procedura molto speciale che Dio stesso aveva definito nell'offerta del sacrificio un lavoro duro un sacrificio durissimo e quanti e quanti ne dovevano ricevere avanti un altro avanti un altro avanti un altro qui però vediamo che nostra madre santissima dice sta cosa e dice mamma ma che ti sei sbagliata attenzione il sacerdote era Simeone no il sacerdote non era Simeone però ovviamente nostra madre santissima ci vuole dare una lezione dice Simeone con la sua fede la sua preghiera incessante riconoscendo il Messia e offrendo la vittima compì un atto sacerdotale quindi fece lui anche se non era lui il sacerdote ufficiale fece un atto sacerdotale che è quello di fare le cose sacre offrire il sacro offrire la vittima e atteggiandosi a profeta oltre che sacerdote profetizzò tutte le spade che dovevano trafiggere il cuore di Maria Santissima il sacerdote era Simeone non è possibile nostra madre santissima se sbagli quindi capiamo che cosa vuol dire con questo atto sacerdotale che il vegliardo Simeone fa perché possiamo farlo anche noi nella divina volontà offrire la vittima di Gesù e mettere insieme come vittima la nostra umana volontà nostra madre santissima lei stessa fa un atto sacerdotale madre santissima offri tu stessa il sacrificio della mia volontà al mio creatore e come lo deposi nelle sue braccia riconobbe che era il verbo divino ed esultò di immensa gioia ecco è compiuto finalmente puoi dismettere il tuo servo e dopo l'offerta atteggiandosi a profeta profetizzò tutti i miei dolori ecco quindi riceviamo insieme a Simeone e Anna di Fanuele quest'altro atto della divina volontà che è la fede e la preghiera incessante credo Gesù credo mio signore che tu vuoi darmi la tua volontà come mia vita credo che io posso riceverla e prego incessantemente il terzo atto la terza manifestazione alle creature è quello della manifestazione ai magi qui c'è anche molta tradizione i magi non vengono nominati nel Vangelo la tradizione vuole che siano Gaspare Melchiorre Baldassarre uno veniva dalle coci del Nilo dal sud dell'Egitto era scuro in volto un altro dalla Mongolia un altro dagli altipiani della terra dell'Ur la terra di Abramo l'audierno Afghanistan immagina questi tre che studiavano erano alla ricerca della verità erano uomini importanti avevano responsabilità avevano persone al seguito eppure stavano lì loro a studiare a capire a desiderare la verità e comprendevano che c'era un segno particolare che si doveva manifestare e che loro dovevano lasciare tutto per seguire questo segno non curando né sacrifici né dicerie né burle perché partivano per un punto ignoto e molte ne dovettero sentire immaginiamo anche loro dicevano adesso mi preparate 40 cammelli io mi porto questo i servi vengono con me ma dove fai ma che fai ma dove fai ti sei messo a studiare le stelle questi tre cammelli poi si si trovano si incontrano e riescono a comunicare tra di loro tutto questo perché dice Gesù per manifestare ai popoli la mia venuta il verbo del padre il verbo del padre sulla terra vogli e me ne servì anche di autorità regia di uomini dotti e scienziati perché per la loro autorità potessero diffondere le conoscenze del dio nato e volendo anche imporsi sui popoli ma ad onta di ciò la stella fu vista da tutti eppure solo tre si muovono fanno attenzione e la seguono sono tre che ecco in loro completano e rispondono a questa terza condizione del conoscere la verità desiderare la verità a costo della vita per poterla mettere in pratica ciò dice che tra tutti solo loro possedevano come si dispiega questa disposizione un certo dominio di loro stessi dominio di noi stessi che è dato dalla ragione usavano la ragione in ordine a Dio studiavano utilizzavano il loro essere dotti eruditi in ordine a Dio per cercare la verità senza preoccuparsi di cosa ecco gli venisse detto dominio di loro stessi e formando un posticino di vuoto nel loro interno ah ho capito allora dominio di me stessa vuoto nel mio cuore oltre alla vista della stella sentirono la mia chiamata il dominio di sé il vuoto un pochino di vuoto nel nostro cuore per sentire la chiamata e seguire la stella questo è l'atto dei magi e questo è un atto che mentre riposiamo vogliamo ricevere anche noi vogli uomini che avessero il dominio di loro stessi che formasse un poco di vuoto nel loro interno per far risuonare l'eco della mia chiamata e seguire la stella vedi dunque quanto è necessario il dominio di sé stessi e il vuoto nel cuore per far risuonare la mia chiamata ed essere idonei a conoscere la verità e a manifestarla agli altri abbiamo bisogno di quest'atto chiamato Gaspare Melchiorre Baldassarre sono nostri fratelli amici nostri che incarnano quest'atto di volontà divina adesso ce lo vogliamo prendere come vita nostra per il trionfo della divina volontà in noi ma anche per la loro gloria in Maria Valtorta si legge per chi ha letto questi scritti o interessati a questi scritti che loro arrivano più o meno a Betlemme quando Gesù ci aveva più o meno otto mesi quindi non stava più nella grotta era già in una casetta di Nazareth di Betlemme chiedo scusa che gli era stata messa a disposizione tramite insomma un po' l'interessarsi dei pastori ma questi da 40 giorni stanno dopo la presentazione al tempio stanno in questa grotta qui gli portiamo il latte ma fa freddo lo deve lavare con l'acqua del torrente ghiacciata i pastori si sono interessati gli hanno trovato una casa ospitante e lì sono rimasti per diversi mesi e lì anche Giuseppe ha sofferto l'umiliazione di non poter essere padre di famiglia dovessere uno che riceveva ospitalità questa stella si ferma sulla casa di Betlemme e Gaspari Merchiorra e Baldassari in fun regalia entrano con i loro doni l'oro della volontà l'incenso della preghiera la mirra del sacrificio di farci si inginocchiano e Gesù si manifesta fa uscire la sua divinità dalla sua umanità inginocchiati per terra non si sarebbero più mossi dice nostra madre santissima e chi li smuove chi li smuove adoranti che meraviglia tanto che il piccolo Gesù dovette ritirare in sé la sua divinità altrimenti altro che fuci del Nilo Mongolia Afghanistan non si sarebbero mossi e ricevendo tramite la mano di Maria che guidava la manina di Gesù la benedizione riuscirono a avere mal in cuore con il cuore spezzato la forza di ritornare per annunciare questa verità come hanno dovuto soffrire pure loro che coraggio aver visto questo mistero dispiegato di fronte ai loro occhi e dover ritornare indietro Gesù che saluta con la manina allora grazie volontà divina vogliamo prendere quest'atto dei pastorelli conoscenza del nulla di noi stessi l'atto di Simeone e Anna di Fanuele la fede e la preghiera incessante per riconoscerti per riconoscere le verità della tua volontà e vogliamo prendere l'atto della tua volontà in Gaspar Melchiorre e Baldassarre che è il dominio di noi stessi utilizzando la ragione e l'intelletto il vuoto nel nostro cuore e l'udito pronto a sentire la chiamata e seguire la stella adesso facciamo un altro piccolo atto e poi ce ne andiamo davanti a Gesù questo quarto atto è un'altra categoria di atti nella vita nascosta di Gesù lo possiamo chiamare se vi va compimento della legge però prima di leggere il testo vediamo che cosa vogliamo dire in questo compimento della legge che cosa ci mettiamo? ci mettiamo innanzitutto la circoncisione ci mettiamo la presentazione al Tempio come obbedienza e compimento della legge del Tempio del Tempo e poi ci mettiamo Gesù quando ha 12 anni come tutti i maschietti diventa maggiorenne figlio della legge e deve andare a Gerusalemme tutto ben vestito per affrontare l'esamino di fronte ai dottori i dottori chiedono a quel tempo c'era il grande Hillel c'era Gamaliene c'era Shammai e tra di loro non è che erano tutti concordi si aspettavano i segni diceva verrà ma sarà secondo me sarà tra 40 anni secondo me il Messia ecco ognuno aveva una sua ovviamente aspettativa e Gesù faceva domande rispondeva alle domande e loro rimasero allibiti soprattutto Gamaliene e infatti Gamaliene per tutta la sua vita restò con questa cosa dice ma chi è quel bambino poi quando Gesù si rimanifesta adulto lo riconosce e lotta con se stesso dice troppo troppo sono troppo diciamo circondato da questa struttura da tutti quei precetti da questa sovrastruttura che l'umana volontà si crea 614 precetti se pare il numero dei parlamentari e poi sarà anche Gamaliene che cadrà in ginocchio di fronte alla croce in verità anche tu sei figlio di Dio che meraviglia nella circoncisione dice Maria Santissima Gesù innanzitutto viene a mostrare che lui è nato a lacrime sangue verso il suo primo sangue si viene ad affratellare i cefighi miei fratellini miei io come voi sono nato io autore della legge mi sottopongo alla legge e subisco il crudele taglio della circoncisione perché verso il mio primo sangue verso le mie prime lacrime ora il dolore di nostra madre Santissima non è il dolore della mamma di un bimbo che versa due lacrime perché il circonciso no lei sapeva lei sa sentiva tutto il dolore di un Dio incarnato che comincia a riparare a soffrire a morire per ogni peccato lei sa è l'unica che sa veramente per questo il suo dolore è di natura divina è inconcepibilmente inconcepibilmente creata soltanto la gioia la può sostenere nel dolore e solo il dolore la può sostenere nella gioia Maria Santissima che sa è la donna che vive a pieno tutti i dolori e tutte le gioie non ha la pelle c'ha la carne viva come la tocchi la fai saltare ha troppa gioia per poter resistere in vita la divina volontà la deve sostenere la riempie di dolore il dolore è atroce come fa? mantiene la gioia grazie Mamma Santa secondo atto nella circoncisione che fa Gesù è quello di obbedire appunto alla legge di sottoporsi a questo disposizione lui è autore della legge non si sottrae alla legge la compie nella maniera più perfetta ci insegna l'obbedienza il terzo atto nella circoncisione ci dice nostra Madre Santissima è la prima riparazione con questo taglio Gesù inizia a riparare al taglio crudele della umana volontà che si è separata dalla divina volontà e lui inizia a ricongiungere soffrendo volontariamente queste pene c'è un passo che dice per ogni morte che si dà al bene e ogni atto di umana volontà ogni peccato ma anche ogni atto di umana volontà è una morte che si dà alla divina volontà che vuole essere vita dell'umana volontà è una morte che si dà a se stessi per non ricevere la vita della divina volontà per ogni morte del bene c'è bisogno di un atto uguale opposto di una vita offerta per riparare a questa morte per questo pensiamo noi ci sembrano delle cose atroci queste culture pagane queste tribù che vivono ancora però ecco c'è sempre un fondamento distorto un fondamento di verità quel poco che Adamo potrebbe tramandare c'è questa idea di un trascendente a cui bisogna offrire il sacrificio poi gli incas gli azotechi ecco nel borneo sappiamo come si manifesta in questo però poi c'è questo fondo di verità in realtà ci vuole chi muore muore volontariamente per riparare a questa morte subita da un Dio e questa morte è inflitta a me stessa per interrompere la vita della divina volontà in realtà sappiamo che l'unico degno l'unico possibile riparatore l'unica vittima l'unico che straccia il velo del tempio si offre una volta per tutte è Gesù altro che il sacrificio umano colombi piccioni buoi eccetera ecco allora il compimento della legge le sue privazioni continuano al più come lampo fuggitivo che mentre pare che voglia far luce si rimane più all'oscuro di prima ora mentre nuotavo nelle amarezze della sua privazione il mio dolce Gesù si faceva vedere nel mio interno tutto occupato a scrivere con penna non con penna ma col suo dito così come fece nel Vangelo non scriveva col suo dito e scriveva col suo dito ci siamo passati veloci però lui si comincia a descrivere la pena della privazione la pena della privazione ecco pensiamo che Luisa dicevamo oggi non lo so a pranzo oppure a cena a pranzo a cena parlare della pena della privazione di Luisa diciamo che durante la giornata 23 ore e mezzo Luisa soffriva la pena della privazione può per mezz'ora veniva Gesù noi ci godiamo quella mezz'oretta di verità e passiamo così veloci sulla pena della privazione non è comprensibile più si conosce Dio più si conosce Gesù e più si sente una pena indescrivibile nel sentirse nei privi la pena della privazione di Luisa è il proxy è la pena che più si avvicina alla pena che Gesù ha sofferto durante la sua vita di sentirsi separato dal padre suo dice Luisa questa pena ti deve consolare non è possibile perché è la pena atroce noi diciamo nei nostri santi abbiamo sentito scrivere della notte oscura dell'anima ecco però qui parliamo di una pena di natura divina che l'anima sente che Luisa sente perché ha conoscenza divina e si sente priva della cosa di cui non può fare a meno e dice ti deve consolare sta pena Luisa perché è il segno certo che io da te sono venuto e che tu mi hai conosciuto e in questa conoscenza io poi ho formato questo vuoto mi sono ritirato apparentemente per ricevere la riparazione per ricevere la riparazione alla misconoscenza e per farti morire dal desiderio per poter espandere la tua capacità come faceva Luisa a contenere tutte quelle verità doveva morire morire costantemente alla sua volontà morire di dolore costantemente perché aumentasse la sua capacità la pena della privazione di Luisa e la pena più vicina alla pena che soffrì Gesù verbo incarnato che dice pur essendo uno con il padre verbo del padre Dio con Dio luce da luce Dio vero da Dio vero nelle pene mi sentivo separato sentiva il padre suo che gli diceva figlio mio mi fai ripreso ti voglio morto è morto crocifisso questa non è la pena del padre mio perché mi hai abbandonato questa è una manifestazione ma questa pena della privazione di Gesù comincia dal momento in cui si incarna olocausto e sacrificio non mai chiesto ma un corpo mi hai dato la sua incarnazione è la sua passione la sua passione comincia dal momento del suo concepimento la pena della privazione del padre suo ecco lui si è straziata da questa pena è Gesù che sta lì a scrivere col dito nell'anima sua e mandando raggi di luce gli serviva quella luce come penna per scrivere nel fondo dell'anima mia io gli volevo dire chissà quante cose della mia povera anima ma Gesù vieni ti prego che fai ma lui mettendosi il dito alla bocca mi faceva capire zitta figlia mia zitta mi faceva capire che zittissi che non voleva essere distolto onde dopo che ha finito mi ha detto figlia del mio supremo volere sto scrivendo nell'anima tua la legge della mia volontà e il bene che essa porta prima voglio scriverla nell'anima tua e poi a poco a poco te la spiego pertanto Luisa non è che scrive il messaggio o è una scrivana Luisa è l'opera del terzo fiat poi quando quest'opera è compiuta è fatta allora quello che scrive è lo sbocco dell'opera compiuta degli atti operanti che già sono vita formazione di vita divina in me a nostra disposizione cuore Dio ed io mio Gesù voglio dirti che lo stato dell'anima mia è terribile oh come mi sento male dimmi perché mi lasci che dovrei fare per non perderti e Gesù non ti affiggere figlia mia e qui veniamo all'atto del compimento della legge tu devi sapere che quando venni sulla terra venni ad abolire le leggi antiche altre a perfezionarle lui che cosa fece non lo so raccolse il nido al sabato gli imputavano chissà quali cose che facessi al sabato ha fatto qualche passo di più raccolto le spighe per carità o altri a perfezionarle ma con l'abolirle non mi esentai di osservare quelle leggi anzi le osservai nel modo più perfetto che lo facevano gli altri ma dovendo unire in me l'antico e il nuovo voglio osservarle per dare compimento alle leggi antiche mettendone il suggello del lui sa scrive abolimento abolizione e dar principio alla legge nuova che io venissi a stabilire sulla terra legge di grazia di amore in cui racchiudevo tutti i sacrifici in me dice Gesù io non vengo a cambiare una iota della legge la compio perfettamente e vi pongo il suggello del fatto avanti come si mette un timbro mi viene un'immagine un po' profana ma è come se Gesù un impiegato postale gli passano avanti tutte le leggi antiche mette il timbro prossimo un altro compiuta next tutte le compie perfettamente per dare la nuova legge della grazia e questo fa nella circoncisione questo fa nella presentazione al tempio secondo le prescrizioni del tempo questo fa quando si presenta all'esame per diventare figlio della legge a 12 anni dovendo io essere il vero e solo sacrificato quindi tutti gli altri sacrifici non erano più necessari e dopo di Gesù dopo la distruzione del tempio ormai i sacrifici sono stati interrotti e magari si vorrebbero riprendere eccetera ma non sarà così perché il sacrificio unico è stato compiuto il vero unico sacrificato quindi tutti gli altri sacrifici non erano più necessari perché essendo io uomo e Dio era più che sufficiente a soddisfare per tutti ora veniamo a noi a che ci serve questo atto ora figlia di Letta vieni Gesù viene a sbadigliare in me vieni Gesù ora figlia mia di Letta volendo fare di te un'immagine più perfetta di me e dar principio a una santità la santità del vivere nel divinvolere nobile e divina quale il fiat volonta sua come in cielo e così in terra che cosa vuole fare di Luisa un'altra impiegata postale di cosa di tutte le santità umane pertanto fa passare Luisa per tutti gli stati d'animo per tutte le santità la santità dell'obbedienza esercitata eroticamente la santità dell'umiltà la santità della carità la santità dell'ascetismo la santità dello scrupolo se esiste voglio accentrare in te per questo il passore ha cominciato con Luisa che si voleva sfogare ma com'è che non viene ti voglio dire lo stato dell'anima mia no figlia mia come io ho dato compimento alle leggi per te devono passare tu non te ne accorgi ma per te sta passando tutta l'umanità tutte le santità perché io le devo compiere le devo abolire perché devo far posto alla nuova santità c'è discontinuità tra la più eroica delle santità umane e la santità divina non c'è continuità è un altro ambiente è un operare divino voglio accentrare in te tutti gli stati d'animo che ci sono stati finora nel cammino della santità e come tu li soffri passano dentro Luisa la notte oscura dell'anima di San Giovanni della Croce si chiama così sì tutti tutti gli stati io che faccio come tu li soffri e passi facendo ciò nel mio volere io ne do il compimento l'incorono e avbellendoli ne metto il suggello tutto deve finire nella mia volontà e dove le altre santità finiscono la santità del mio volere essendo nobile e divina tiene per sgabello tutte le altre santità e ne dà il principio perciò lasciami fare fammi ripetere la mia vita e ciò che feci nella redenzione ora con più amore voglio ripeterlo in te per dar principio a che la mia volontà le sue leggi siano conosciute ecco quest'atto che cosa ne dobbiamo fare noi Gesù mi prendo il tuo atto del compimento della legge per prendere in me l'atto dell'obbedienza e per prendere in me questo atto in cui ogni stato d'animo santo buono bello deve passare affinché la tua volontà in me ne dia il compimento compiuto avanti pertanto viviamo in noi tutti gli stati d'animo dice Gesù a Luisa a volte ti senti che ti cambia all'improvviso il tuo stato d'animo ma non è tuo è mio io sto lavorando allora non vederlo come cosa tua è cosa mia io gli sto mettendo il suggello del compimento pertanto Luisa aveva questo grande distacco da se stessa non solo dagli altri ma anche da se stessa quando le veniva qualche pensiero o qualche cosa diceva il pensiero mi ha detto come dice lei non si identificava con questo pensiero questo pensiero mi ha detto ma faccio scorrere tutto nella divina volontà pertanto dove le altre santità finiscono la santità del mio volere nobile prima comincia prendiamo noi questo atto del compimento della legge e del suggello del compimento di ogni stato interiore e ce ne andiamo con Gesù nel cuore davanti a Gesù in cappella continuiamo continuiamo sempre e soltanto in nome del Padre in nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo amén tutti immersi in questa volontà divina per chiedere a nostra Madre Santissima di aiutarci Mamma Santa prendici per mano e facci nuotare in questo oceano immenso in cui tu fosti concepita in cui tu hai vissuto e continui a vivere e continui ad operare prendici per mano e con l'aiuto ecco della catena del Santo Rosario portaci saltellando tra un atto e l'altro affinché noi ecco lo possiamo guardare lo possiamo baciare lo possiamo riconoscere ci possiamo dolere per quanti non lo riconoscono possiamo prendere le pene di Gesù e Maria per offrirle in riparazione a tanta misconoscenza e ingratitudine possiamo ringraziare per tutti possiamo mettere anche solo il nostro piccolo ti amo soprattutto quando siamo molto stanchi mettiamo il ti amo e abbiamo fatto tutto il ti amo è amore adorazione stima sacrificio fiducia il ti amo è tutto ne prendiamo possesso di questi atti perché quando si sentono amati si arrendono mi ami mi possiedi funziona così se li possediamo ce li vogliamo mettere al sicuro e dove dentro di noi nessuno potrà toccarli sono custoditi dentro la nostra volontà operante nella divina e se li teniamo dentro di noi ci possiamo fare quello che vogliamo che cosa vogliamo venga venga al tuo regno con questa potenza con questa autorità con questa fiducia che prendiamo da nostra madre santissima stessa ecco in questi giorni abbiamo girato in alcuni degli atti in particolare nella incarnazione del verbo che abbiamo scoperto essere non scoperto abbiamo ribadito e ponderato essere l'atto principale addirittura il primo atto della divina volontà il primo atto della divina volontà verso la sua creazione il decreto della incarnazione perché senza l'incarnazione Dio non ha ragione di creare è per lui che tutto venne creato in vista di lui è lui il glorificatore divinizzatore della creazione allora questo è l'atto primo è anche l'atto primo della nostra vita in lui e per lui siamo creati e ci muoviamo e operiamo quindi l'incarnazione del verbo vero uomo e vero Dio umanità di Gesù e divinità di Gesù in lui troviamo la divina volontà operante che fa tutto per tutti questa incarnazione è atto primo ma è anche atto di centro perché dall'eternità cade nel mezzo dei secoli nel mezzo della carta geografica nel mezzo delle nostre vite nel mezzo delle nostre circostanze si è sempre in mezzo nel mezzo della giornata all'ora dell'angelus ed è anche atto necessario perché appunto senza di lui non soltanto noi non siamo salvati ma noi non siamo lui è la connessione tra il divino e l'umano dice Gesù nelle nostre opere a destra c'è sempre una trasmissione di divino e di umano c'è sempre una trasmissione di cielo e terra di spirituale e di materiale in ogni cosa che riguarda la creazione in ogni cosa che riguarda la nostra umanità i nostri atti c'è sempre una trasmissione di materia e di spirito di cielo e di terra di divino e di umano noi siamo corpo e anima e anche i nostri corpi verranno ricongiunti alle nostre anime con la resurrezione finale che meraviglia diceva Luisa nel volume primo la verità più consolante per un cristiano è le due verità è la presenza reale corpo sangue anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo nella Santissima Eucaristia e poi questa verità più consolante è la resurrezione dei corpi una volta avendo quello in mente ma chi ci potrà allontanare dall'amore di Dio che mi fa risorgere anche con il mio corpo per ricongiungermi alla gioia beata con il corpo e con l'anima che meraviglia credo nella resurrezione della carne e la vita del mondo che verrà le ultime due parole del credo quando già magari so girare la testa a pensare quando finisce la messa mamma mia che verità dice ma i corpi non credo nella resurrezione della carne poi ci siamo addentrati un pochettino in questi atti di Gesù nella sua vita nascosta il primo atto categoria di atti non abbiamo potuto fare a meno che entrare subito in questa corrente di amore tra Gesù e Maria e noi stessi entrando in questo atto non è che abbiamo fatto gli spettatori c'è un passo di Luisa dove Maria Santissima ha Gesù in braccio e Luisa vuole andare lì e prenderselo e l'angelo dice no no fermati non toccare dice mettiti al tuo po lui sarà troppo ardita dice questo è mio e la dice ferma non toccare il presepe dice no questo è mio anzi io sto dentro io sono quella corrente di amore io sono la procedenza dell'amore tra Gesù e Maria i figli della divina volontà sono alla procedenza dell'amore tra Gesù e Maria così come lo Spirito Santo procede dall'amore tra il padre e il figlio il padre che genera il figlio che riama il padre che lo genera allora il primo atto in cui siamo entrati in questa vita nascosta di Gesù e di Maria in queste correnti di amore allora ci siamo nascosti in Gesù per ricevere l'amore in eterno di Maria non più le sue grazie la sua intercessione i suoi favori no no la pienezza del suo amore materno che genera che genera vita divina in noi vuoi che io ti faccia tutto quello che ho fatto per il mio figlio Gesù fatti trovare nella divina volontà stai sicura che tutto quello tutto l'amore è la cura lo sviscerarsi di Madre Santissima nostra Madre Santissima in Gesù lo farà per l'anima che vive nella divina volontà e con onore mi sentivo onorata poi ancora sempre riposandoci eh e premettiamo questa non è teoria che metteremo in pratica questi sono atti che stiamo facendo non c'è l'avanzato il principiante no 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 qua siamo tutti nulla che sguazziamo in questo mare altra premessa per sguazzare in questo mare dobbiamo buttarci con piena fiducia sappiamo che siamo nulla sappiamo che abbiamo i nostri difetti sappiamo che la nostra area delle disposizioni di cui ci giustamente continua a ricordarci il padre tra il primo e il decimo volume non finirà mai però non per questo vogliamo precluderci la possibilità di ricevere quello che Dio vuole darci esaurendosi per noi e anche noi ci vogliamo esaurire siamo una famiglia di esauriti allora per girare in questa divina volontà che ci vuole la carta la penna vent'anni di conoscenza no ci vogliono due cose i chiodi che ci crocifiggono a questa volontà come si chiamano questi chiodi Gesù li nomina in modo molto specifico questo si chiama oblio di sé quest'altro si chiama assenza di riflessioni personali Luisa quel continuo fonderti nella mia divina volontà senza pensiero di te obliandoti di se stessa e senza nessun interesse personale senza riflessione personale sono cosa del tutto divina continua a fonderti allora ci chiediamo qual è la nostra croce ieri a cena iniziamo a parlare di cose belle poi inizia subito si però la mia tentazione la mia la tentazione di ogni volontà umana si però io si per no proibito vogliamo sapere qual è l'unico atto eroico che dobbiamo fare rinunciare al pensiero di noi stessi e se possiamo anche a parlare di noi stessi che atto eroico ci sembra una cosa che io pensavo che dovevo andare a pane acqua oggi pane acqua oggi è uno scherzo in confronto a questo oblio di sé assenza di riflessione personale c'è una una lista bellissima di l'abbiamo letto anche all'inizio di questo incontro dove Luisa vuole lamentarsi e Gesù dice no 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 queste sono bambinate e di anime molto deboli che pensano a sé e non a me e si occupano di quello che sentono di quello che non possono di quello in cui non riescono invece di occuparsi di quello che qual è il loro ufficio cioè farmi continuare la loro vita in loro associandosi a me per la salvezza dei poveri fratelli e la santificazione allora chiudendo questa parentesi via abbiamo continuato poi a girare nella in questi atti della vita nascosta e poi ci siamo pure messi ecco ci siamo pure nascosti dentro Maria Santissima come una corrente alternata di quest'amore e nascosti in Maria Santissima abbiamo ricevuto l'amore di Gesù ti amo mamma mia ti amo mamma mia e addirittura Gesù chiama Luisa e l'anima che vive nella sua divina volontà la mia mamma come fa a trovare Gesù il suo paradiso in terra come fa Gesù a vivere sulla terra senza l'amore materno che è l'amore del padre celeste depositato in una creatura ed è tanto sublime quest'amore che gli cambia nome lo chiama amore materno perché dentro l'amore materno si sperderebbe l'amore materno e l'amore paterno è quello potente che genera che guida che istruisce che dà tutto ciò che possiede dà tutta l'eredità al proprio figlio l'amore materno è amore di abnegazione amore che si nasconde dietro il padre allora il padre ci ama con amore di madre in Maria quanto è tenero il padre si nasconde deposita il suo amore materno dentro una creatura e ci ama in Maria con quest'amore di abnegazione amore costante amore totale amore che dà il sangue amore che si contenta di dar la vita sono tutte definizioni che troviamo negli scritti dell'amore materno pur di far nascere e far crescere il proprio parto allora Gesù dice a Luisa e all'anima che vive nella divina volontà mamma mia mamma mia la mia mamma mi amerai con insuperabile amore di madre ecco allora ci siamo presi le cure materne di Maria per Gesù e ci siamo presi l'amore di Gesù per la sua mamma tutto nostro lo facciamo circolare è alto nostro qual è la volontà che anima questo atto la volontà di Dio pertanto la volontà anima quest'atto quella è la volontà e l'atto proviene da quella volontà se la mia volontà la volontà che opera è volontà di Dio nella mia come vita quello è atto mio mi spiace nessuno me lo può togliere nessuno mi può fare serva in casa del Papa mio questo non per una rivendicazione ma per infonderci quella fiducia quella semplicità per dire sono atti veri come disse José Apugna tanti anni fa un primo ritiro in Messico io non capivo niente e dice ma ci credi tu avevamo delle patatine ma ci credi tu che in quest'atto di mangiare quest'atto naturale di mangiare una patatina messo nella divina volontà questa divina volontà riempieciola e terra di adorazione di gloria al Padre di ringraziamento per tutta la creazione per tutti i doni della creazione e poi si mette a circolare per tutte le creature per ringraziare per riparare per amare e poi vola nel purgatorio e poi dà gioia e beatitudine anche alle anime del cielo e poi fa quello che le anime che hanno detto no in eterno per sempre non hanno fatto ci credi tu che fa tutto e io dico sì e mangia della sta patatina poi dopo il primo atto correnti d'amore tra Gesù e Maria dice dove andiamo che cosa succede Gesù come non ce la fa non è che resta lì nella grotta comincia a manifestarsi si manifesta ai pastori si manifesta al vecchio Simeone ad Anna di Fanuele con la presentazione al Tempio si manifesta ai nostri carissimi fratelli Gaspare Merchiorra e Baldassarre che adesso ci fanno compagnia e ogni atto che facciamo nella divina volontà si fiondano nessun'anima vorrebbe restare fuori dall'estasi dalla gioia più grande che è vedere la divina volontà operante in terra per cui possiamo stare certi che ogni volta che un'anima fa un atto nella divina volontà in terra tutta la creazione e tutte le anime si fiondano in questo atto per contribuire con quello che hanno fatto loro e per ricevere la gloria accidentale di questo atto pertanto adesso sono nostri amici non ce li possiamo più schiordare di dosso altro che Pupazzenti Gaspare Merchiorra e Baldassarre questi tre queste tre manifestazioni manca a farla apposta volume 28 quindi tempi insospetti e dice Gesù che cosa ci vuole per riconoscere le verità della divina volontà che cosa ci vuole per ricevere questa verità numero uno umiltà ah i pastori quello che ci voleva allora per riconoscere il Messia ci vuole oggi per riconoscere queste verità per cui prendiamolo quest'atto perché ci serve è un atto di volontà divina operante non è la contemplazione della natività è formazione di vita divina in noi allora mi prendo quest'atto del piccolo beniamino che ha la capretta sulle spalle e lo faccio mio e dico sono niente Dio è tutto gloria a Dio nell'alto dei cieli umiltà conoscenza del nostro nulla qual era la seconda condizione per conoscere la verità dice Gesù fede e preghiera incessante pare che ci ha scritto sulla fronte Simeone Anna di Fanuele fede dice lo spirito gli aveva promesso che non avrebbe conosciuto morte se non prima di vedere il Messia il sospirato Messia Anna di Fanuele vedo che stava lì nel tempio a pregare e digiunare nessuno la morava di là preghiera incessante allora facciamo nostro questo atto fede e preghiera incessante credo che Dio vuol dare questo dono credo che io lo posso ricevere e lo chiedo e lo desidero in ogni istante terzo i re magi dice questi magi quante ne dovettero sentire si mossero dai loro luoghi che siano l'odierno Afghanistan piuttosto che la Mongolia piuttosto che le origini del Nilo in Egitto per dare un contesto storico secondo la tradizione è bello vederli nella loro carne che sono persone atti veri come pure il nostro padre Adamo e che cosa fanno hanno dominio di sé usano la ragione studiano e hanno tanto dominio di sé che sono disposti a sopportare il ridicolo in cui vengono messi nei loro luoghi d'origine sono insopportabili nel loro ambiente familiare nei loro regni dalle persone sono dei fissati vero Tiziano sono dei fissati ma loro vanno avanti atto continuo non solo dominio di sé ma vuoto nel proprio cuore per sentire la chiamata e seguire la stella quindi questo è l'atto che vogliamo ricevere dai Santi Magi ed è l'atto che vogliamo utilizzare noi stessi per oggi riconoscere non solo la venuta del Messia ma la venuta del Regno tramite queste verità poi abbiamo fatto un altro passo dice un altro passo degli atti nella vita nascosta di Gesù il compimento della legge scusate il riassunto delle puntate precedenti ma a me serve tra l'altro la vita nella divina volontà è ripetizione continua degli atti il ripetere gli atti lui sa che cosa faceva continuamente ripetere perché i bimbi prima ancora che cominciano a capire fanno cucù noi siamo stufi dopo mezz'ora a fare sempre lo stesso giochino loro no è come se avessero appena iniziato allora il ripetere costantemente lo stesso atto dice Gesù è il proxy è la cosa che si avvicina di più all'atto eterno che è sempre in atto ovviamente noi viviamo in un ambiente di tempo e spazio non abbiamo la percezione di compiere un atto eterno che non ha né inizio né fine ma qual è il proxy qual è diciamo l'equivalente nell'ambiente dello spazio del tempo dell'atto unico eterno la ripetizione continua degli atti cucù va va per Maria nel rosario nel rosario nella nostra fusione continuamente la liturgia continua che si ripete la Santa Chiesa che ci fa ripetere questi atti questa liturgia la liturgia meravigliosa della Santa Messa ma anche la liturgia ordinaria della nostra giornata quotidiana che bello tutto è sacro tutto è santo facciamo dice Gesù fai la tua giornata con me allora nel compimento della legge abbiamo incluso la circoncessione dove Gesù dice si si viene ad affratellare con noi sono nato a lacrime e sangue come voi viene a obbedire lui autore della legge si sottopone alla legge e poi viene inizia a riparare con questo taglio crudele al taglio della umana volontà che si è separata dalla divina con il peccato originale con i nostri peccati individuali anche Gesù ha il chiodo fisso anche Gesù è un monotask c'ha soltanto una cosa in testa il regno quello è il suo obiettivo dovrà redimere dovrà buttare il sangue però il suo unico scopo è quello non c'è distrazione lì vuole qualsiasi cosa abbia fatto qualsiasi cosa abbia detto Dio nell'antico nel nuovo testamento lo scopo unico e finale è la formazione del regno della divina volontà tutte le apparizioni di nostra madre santissima qualsiasi diciamo dono mistico ecco sono missioni minori ma funzionali e finalizzate ad un solo punto che la divina volontà regni nella creatura come vita la presentazione al tempo abbiamo al tempio abbiamo visto il compimento della legge con Gesù che va a fare l'esame per diventare figlio della legge all'età di 12 anni tutto ben vestito immaginiamoci nostra madre santissima no immaginiamoci entriamo in quest'atto in cui nostra madre santissima dice bello figlio mio tutto bello con i suoi riccioli con le frange si mettevano le frange quando diventavi figlio della legge perché diventavi adulto eri responsabile per le tue azioni e Gesù che va a fare l'esamino diventa figlio della legge e li incontra ai dottori che poi diciamo ma chi è questo bambino ma come fa a sapere ma chi è e lì abbiamo parlato anche del nostro caro fratello Gamaliene che si era uno dei primi diciamo cristiani provenienti diciamo dalla casta dei dottori e dei sapienti dell'Antico Testamento ecco adesso continuiamo perché già ci siamo allargati su questi atti continuiamo con un altro atto e quest'atto lo chiamiamo Gesù è il padre abbiamo visto ieri come Gesù fa sostanzialmente in ogni cosa che fa ci sono tre punti la prima cosa gloria a Dio gloria al padre padre ti rendo grazie a te la gloria sempre lui si rivolge con l'asse verticale della croce al padre il secondo elemento di ogni suo atto è la riparazione dice guarda questi miei fratelli io faccio tutto per te lo faccio anche per loro quanto ti deve Marina? 100? pago io e Daniela quanto ti deve 95? pago io quindi innanzitutto gloria e onora al padre in nome di tutti perché il padre trovi in lui tutta la compiacenza poi riparare e abbracciare tutta l'umanità per rifare a costo di pene e sangue morti inaudite tutto per tutti quindi la redenzione terzo impetrare il regno della divina volontà allora entriamo in questo primo atto di Gesù Gesù è il padre anche nella sua vita nascosta immaginiamoci quante volte Gesù ecco nascosto era in conversazione con il padre e la sua preghiera il suo silenzio nella casa di Nazareth regnava il silenzio altro che chiacchiera no? eravamo dice nostra madre santissima nel suo libro talmente tanto presi che non avevamo tempo di parlare tra di noi la parola è proprio l'espressione necessaria altrimenti tutto si svolgeva nell'interno eravamo talmente presi che non avevamo il tempo di parlare tra di noi allora Gesù dice figlia mia io non facevo altro che darmi in balia della volontà del padre non Gesù ha trent'anni Gesù ha un anno Gesù ha due Gesù ha tre continuamente potevo dire che la mia vita la svolgevo nel padre ed io ero il portatore del padre perché tutto chiusi nel suo volere e niente facevo da me dice anche San Giovanni Gesù io non faccio niente per mia autorità faccio solo le opere che mi dice di fare il padre che vedo il padre non dico niente per mia autorità ripeto quello che mi istruisce quello che mi dice il padre e allora la mia vita naturale finì quando in tutto compì la volontà del padre se sapessi se pensiamo che magari ecco nella nostra ignoranza a volte si sente abbiamo potuto pensare o abbiamo potuto sentire che Gesù nei primi trent'anni della sua vita che cosa faceva cominciava a rendersi conto e a prendere coscienza della sua missione della sua identità di messia al terzo giorno della novena di natale appena concepito lui dice io ero dio dovevo farla da dio con pienezza di ragione divina comincia a soffrire la sua passione ad operare da dio nel momento del fiat mi altro che presa di coscienza della propria identità dice cosa faccio cosa non faccio ma si forse posso fare qualcosa vero uomo e vero dio oh quali oceani di amore di relazioni si aprirono tra la mia umanità e la maestra suprema allora Gesù in continua comunicazione con il padre allora Gesù vogliamo entrare anche noi in questo atto in questo atto in cui tu preghi sei in comunicazione con il padre e ci mettiamo in questa comunicazione ci chiudiamo nella tua preghiera ci chiudiamo negli atti in cui tu giri per tutta la creazione e dai gloria al padre per tutti noi questi atti che noi stiamo facendo li ha fatti Gesù nella sua vita mortale e lui che ha racchiuso tutto in sé quando è iniziato subito con suono di tombra no in silenzio continuando il mio solito stato me l'ho passato bello sentire me l'ho passato insieme col mio dolce Gesù ed ora si faceva vedere a bambino ora crocifisso e dice Gesù figlia mia questo è il primo passo del volume 12 in cui Gesù manifesta l'operare della sua divina volontà nella sua umanità e manifesta lui sa quello che lui faceva con il padre per onorarlo e glorificarlo per tutta la creazione quindi è il primo passo nei volumi che parla di un giro nella creazione ed è Gesù che dice vieni un po' figlia mia vieni a vedere cosa facevo entra nella mia divinità e corri nell'eterna mia volontà e vi troverai la potenza creatrice come in atto di mettere fuori la macchina di tutto l'universo e Gesù stava in questo atto ad onorare il padre in ogni cosa che creavo mettevo una relazione un canale di grazie un amore speciale tutto ciò che Adamo innocente riceveva senza esercizio di fede era inondato a me in modo un po' ridicolo forse sciocchino mi piace pensare che i capelli non sono altro che la versione decaduta di raggi di luce che collegano che collegano Adamo e la creatura innocente con ogni cosa creata e da ogni cosa creata lui riceve conoscenza amore grazia conoscenza di sé e di Dio amore divina volontà era collegato con tutte come si faceva come faceva a chiacchierare con Eva avevano troppo da fare si sentiva inondato ecclissato ma nel vedere la mia umanità che tanto bene doveva apprezzare e che ogni cosa creata doveva aver avuto le sue relazioni con l'Eterno riconoscerlo amarlo non solo per sé ma per tutta l'umana famiglia il padre non guardò al torto dei figli e con il suo uomo contento distese il cielo tempestandolo di stelle sapendo che quelle stelle dovevano essere tante svariate relazioni grazie senza numero fiumi d'amore che dovevano correre tra la mia umanità dice Gesù è l'ente supremo per lui in vista di lui tutto è stato creato il padre trova in lui ha posto in lui tutta la compiacenza ed è lui Gesù che deve dare per tutte in nome di tutti gloria e onore al padre per tutta l'opera della creazione oh quali oceani di amore relazioni si aprirono tra la mia umanità e la maestà suprema io sottentrai a tutto riconobbi il padre ed adorai per tutti la potenza creatrice ma il mio amore verso tanta bontà non è contento vorrei che altre creature riconoscessero amassero e adorassero questa potenza creatrice il primo giro di Luisa nella creazione Gesù se la chiama Luisa non sapeva ancora come andare a bussare entrare in ogni cosa creata Gesù la chiama semplicemente viene a vedere la potenza creatrice che mette fuori la macchina della creazione io non so dire come sono entrato in questo divinvolere ma sempre insieme col mio dolce Gesù e vedevo questa suprema maestà in atto di mettere fuori tutto il creato oh Dio che amore ogni cosa creata riceveva l'impronta dell'amore la chiave di comunicazione il muto linguaggio di parlare eloquentemente di Dio ma a chi ha la creatura ingrata io non so andare avanti nel dire la mia piccola intelligenza si perdeva nel vedere le tante aperture di comunicazione l'amore immenso che usciva da esse e la creatura che rendeva questi doni come estrani noi sbucciamo la mela ma ci prendiamo tutto l'amore tutta la conoscenza la grazia la dolcezza la divina volontà creante che sta nell'atto chiamato mela onde insieme con Gesù come moltiplicandoci in tutti abbiamo adorato ringraziato riconosciuto a nome di tutti la potenza creatrice e l'Eterno riceveva la gloria della creazione Gesù è scomparso e io sono ritornato in me stessa allora pure noi ci mettiamo in quest'atto con Gesù con Maria Santissima che dal momento del suo concepimento dotata di piena ragione divina quale fu il suo primo atto dare la sua umana volontà non volerla neanche conoscere il secondo atto offrirsi a qualsiasi sacrificio pur di non fare la sua umana volontà terzo atto dare al padre l'onore e la gloria in nome di tutti per tutta la creazione e per tutte le creature Maria è ancora nel seno di Sant'Anna ma non ha detto neanche un ti amo con la sua umana volontà neanche che no primo atto non la voglio conoscere perché dotata di ragione divina aveva visto vedeva le conseguenze del peccato e che cosa sarebbe costato a un Dio che cosa avrebbe dovuto soffrire il Dio incarnato per riparare a questo peccato e già si sentiva madre io mi sentivo madre di Dio perché lo volevo proteggere non volevo soffrire e mi sentivo madre dei miei fratelli delle creature allora quest'atto diciamo di glorificare Dio per tutta la creazione in comunicazione con l'eterno Padre lo fa nostra madre Santissima nel seno di Sant'Anna e lo fa Gesù già nella sua vita nascosta comincia e vogliamo farlo anche noi entriamo in un altro atto nella vita nascosta di Gesù i suoi atti di riparazione di espiazione per tutte le creature le lacrime nascoste di Gesù come dicevamo ieri la passione di Gesù non è quella del venerdì santo o meglio quella del venerdì santo di Gesù sono delle chiamate la passione fisica di Gesù li chiama sollievi carezze in confronto alla sua passione divina la passione di Gesù la grande sconosciuta noi conosciamo diciamo un po' la passione corporale e già possiamo dire uh che male tanti studi sono stati fatti sulla sindone il prigioniero veniva flagellato 40 volte con il flagrum se no i romani che avevano grande esperienza in queste cose sapevano che dopo la quarantesima frustata gli moriva e quindi non lo potevano crocifiggere sul corpo di Gesù ne hanno contate 120 perché gli inferi si erano scatenati perché non c'era più nessuno che non dicesse ti voglio morto e morto crocifisso allora già la passione corporale di Gesù il tetano il soffocamento il fegato spappolato già questo ci lascia senza parole ed è il simbolo della sua passione interiore poi abbiamo iniziato a conoscere la sua passione morale potremmo dire nel corso dei secoli magari con queste manifestazioni ai mistici pensiamo a San Gertrude oppure Santa Maria Margherita di Alacoque a cui Gesù manifesta ecco il suo sacro cuore comprendiamo come perché quando sentiamo un dolore un'ingratitudine abbiamo questa morsa qui al petto allora identifichiamo questo dolore morale il centro e il cuore e allora la passione morale di Gesù quella per l'ingratitudine di cui possiamo avere un certo sentore quando siamo abbandonati quando ci sentiamo traditi ecco immaginiamo Gesù che si sente abbandonato dal padre suo ti voglio morte molto pur essendo uno con Dio nelle pene si sentiva uno si sente tradito da tutta l'umanità lui che è venuto a dare tutto ecco questa è la passione morale poi c'è una terza la grande sconosciuta che è la passione divina di Gesù non inflitta da uomo inconcepibile a mente umana le creature si sarebbero stancate come avrebbero fatto come a crocifiggermi trilioni e trilioni e trilioni e trilioni e trilioni e trilioni di volte per quanti atti di umana volontà separati dalla divina per tanti dei cibi tante crocifissioni impossibile anche il male si esaurisce nella sua perversa creatività allora l'architetto della passione di Gesù la vera la passione di Gesù la passione divina chi è? suo padre è lui che è l'architetto lui gliel'ha pensata l'hanno pensata insieme quando lui nel decreto dell'incarnazione mi disse figlio mio ci vuoi andare? sai cosa comporta questo? e lui dice eccomi manda me come disse il profeta e lo spirito santo consente questa passione divina è la privazione che Gesù sente della sua stessa divinità inutile cercare di usare parole è passione inconcepibile a mente umana tu non hai voluto né sacrificio né offerta ma un corpo mi hai preparato dice Gesù la mia incarnazione è la mia passione è l'inizio della mia passione già nella novena di Natale quella che chiamiamo novena di Natale i nove cessi di amore già al secondo giorno amore amore costretto terzo amore divorante oceani mari di fuoco lo divoravano ma per divorare chi? le creature quarto giorno amore operante vieni vieni nel seno della mamma guarda ho già la corona di spine sono già crucifisso già comincio ad operarla a farla da Dio già comincio a riparare per tutti già comincio il compito delle pene e delle lacrime l'amore isolato l'amore prigioniero l'amore non corrisposto l'amore mendicante l'amore il nono giorno della nove cessi d'amore nella mistero dell'incarnazione l'amore agonizzante Gesù e lui lo vede nel seno di Maria morire e poi risorgere non morire ti prego non morire tu vuoi amore ti darò amore mi voglio dare tutto a te ti prego fai che io possa essere sempre tua dice Luisa ma poi tornavo sempre ai miei difetti quindi le sue lacrime le lacrime nascoste di Gesù la passione di Gesù comincia dal momento del suo concepimento e mentre sono visibili in questo tripudio in questa scena dolente che questo grande attore divina volontà manifesta sul Golgotha in realtà si compiono in modo non meno cruento efferato nel nascondimento dal suo concepimento una sorella mi diceva ieri ah non sapevo la passione di Gesù comincia con il suo concepimento e si segniamoci se vogliamo c'è questa non so se si può dire in italiano pentalogia ci sono questi cinque brani nel volume 12 che mi hanno sempre colpito messi insieme fanno un quadro della passione di Gesù dal momento del suo concepimento l'anno e il 1919 sempre il volume è sempre il 12 le date sono 4 febbraio 18 marzo 20 marzo 8 maggio 4 giugno e poi avremo una pallidissima idea tutti i rimedi che ci vogliono a tutta l'umanità nella mia vita e passione ci sono dov'è la soluzione della nostra vita nella vita non soltanto la vita pubblica ma nella vita nascosta di Gesù le mie lacrime incominciarono dal primo istante del mio concepimento nel seno della mia mamma celeste fino all'ultimo respiro sulla croce nessuno seppe le tante lacrime mie i tanti miei pianti nascosti e segreti allora entriamo in questo atto della vita nascosta di Gesù che sono le sue pene le sue lacrime la sua passione di una quasi poesia struggente noi sappiamo come ad extra gli atti ad extra della creazione così come la creazione naturale è compiuta è finita sono trilioni e trilioni le stelle però hanno un numero finito incommensurabile gli scienziati non l'hanno ancora diciamo però questo numero è finito allo stesso modo la creazione spirituale degli atti di Gesù degli atti di Maria di tutti gli atti delle creature sono incommensurabili però sono un numero finito così pure un numero finito il numero degli angeli e il numero di quelli di quel terzo ecco allora pensiamo a Dio come il grande matematico è un grandissimo amorevolissimo precisissimo artista matematico è bello dire a Gesù e sentire Gesù come dice la volontà del mio padre mi affidò anche il compito delle lacrime ne dovevo versare tante dai miei occhi quante ne dovevano versare tutte le creature insieme il numero è esatto è preciso allora nella sua volontà Gesù versava tutte le lacrime lo poteva fare per una volontà operante in lui la sua umanità la sua biologia umana non glielo consentiva ma lo faceva questi atti non sono meno reali perché non sono visibili non sono misurabili biochimicamente 3 trilioni 427 milioni 721 lacrime 722 tutte avevo che bello dice avevo il compito delle lacrime tant'è vero dice come concepì subito dovevo iniziare sto lavoro tutte le concepì le anime in me così dovevo versare tutte le loro lacrime nei miei occhi vedi dunque quanto dovetti piangere dovetti versare dei miei occhi le lacrime che le creature versano per le passioni questi desideri disordinati gli amori disordinati le passioni che ci tiraneggiano ci fanno piangere perché vogliamo disperatamente cose che ci uccidono affinché le mie smorzassero le loro passioni dovetti versare tutte le tipologie di lacrime dovetti versare le lacrime che ci vogliono dopo il peccato le lacrime di contrizione le lacrime della conoscenza della verità le lacrime del pentimento per dar loro il dolore di avermi offeso e il convincimento del male che hanno fatto preparando con le mie lacrime il proposito di non offendermi più altra tipologia di lacrime dovetti versare le lacrime per intenerire le amime i cuori duri tanto ne verso Gesù che sono pronte ad intenerire tutti i cuori anche quelli di pietra per amarmi ad attirarmi attirarmi la loro simpatia e il loro cuore tutto per me basta dire che non c'è lacrima che spunti sull'occhio umano che non versai dai miei occhi nessuno sette le mie tante lacrime padre mio vedi sono nato nel mondo alle lacrime al dolore simile ai fratelli miei che nascono alle lacrime e muoiono nel pianto io amo tanto questi fratelli che voglio versare tutte le loro lacrime nei miei occhi Gesù stava nella casetta di Nazareth nel giardino e che faceva nessuno neppure una voglio farmi sfuggire per dare alle loro lacrime lacrime d'amore di dolore di vittoria di santificazione di diviniziazione perché quello è lo scopo di Gesù e poi e questa è la cosa più struggente quante volte la mia cara mamma guardandomi Gesù era gonfio di lacrime non a 15 anni a 3 a 2 guardandomi restava trafitta nel vedermi tutto bagnato di pianto la casa già era piccola dove si doveva andare a nascondere Gesù in Egitto oppure a Nazareth e lei unì e lei univa per il dolore di vedermi piangere le sue lacrime alle mie ecco tutti gli atti fatti da Gesù tutti gli atti che fa Gesù incluso il computo delle lacrime stanno fatti in Maria Santissima e piangevamo insieme e alle volte dice Gesù ero costretta a nascondermi dice dove sta mamma sta pulendo il giardino me ne vado nel laboratorio dove sta mamma sta pulendo il laboratorio me ne vado nella stanzetta mi nascondo dietro la madia per dare sfogo ero costretta a nascondermi per dare sfogo al pianto per non trafiggere sempre il suo sempre cioè la Chiesa parla di sette spade ma se conoscessero la divina volontà operante mia madre Santissima altro che sette spade sono sette mila miliardi di spade trilioni e trilioni di spade senza che lei facesse la minima resistenza questa è la crucifissione oblio di sé nessuna riflessione personale altre volte aspettavo quando la mia mamma celeste per necessità doveva occuparsi in altre faccende beh dai è andata a prendere l'acqua al pozzo e Gesù cominciava a piangere per dare sfogo alle mie lacrime per poter compiere il numero delle lacrime di tutte le creature grazie Gesù ci mettiamo in questo anno e ci mettiamo le nostre lacrime quelle che abbiamo versato per passione quelle che abbiamo versato per amori disordinati quelle che abbiamo versato per pentimento quelle che abbiamo versato per amore quelle che abbiamo versato per gioia quelle che abbiamo versato per gratitudine tutte le mettiamo in te ci mettiamo quelle di tutte le creature perché tu possa coprirci inondarci con le tue lacrime purificarci santificarci e divinizzarci con l'acqua santissima delle tue lacrime ecco entriamo in un altro atto l'ultimo per adesso prima di andare alla santa messa preparazione del regno della divina volontà dentro la sua umanità ecco Gesù comincia durante la sua vita nascosta a fare tutti gli atti abbiamo visto già come lui si rivolgeva al padre e gli dava gloria per ogni cosa creata e per ogni creatura il regno della mia volontà fu formato dentro la mia umanità Gesù muore di doglie di parto e questo dice tutti questi atti sono sospesi nella mia umanità e aspetta che noi mettiamo la spina e ce li andiamo a prendere e li facciamo nostri però questa formazione è stata effettuata nel tempo nella sua umanità durante il periodo della sua vita nascosta quanto ha dovuto lavorare quanto ha dovuto lavorare ecco esternamente si vedeva un fanciullo ubbidiente che giocava con i cuginetti Giacomo e Giuda andava a scuola dalla mamma imparavano le sacre scritture i salmi e poi aiutava il papà nei lavori fabbrili e poi nel paese era conosciuto per essere tanto mite tanto buono e poi quando iniziava a crescere già a 22 23 anni dice ma per chi non si sposa questo le vicerie no Maria era la debole già in famiglia magari suo cugino Alfeo diceva ma ma questo ma quando è che si sposa ma che fai ti tieni sto figlio a casa dice ma che e Gesù lavorava 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 e formava il regno della divina volontà dentro di sé H24 furono tutti furono fatti tutti i preparativi impetrate tutte le grazie sofferte tutte le pene perché il regno del mio volere venisse a regnare sulla terra onde Nazareth si può chiamare il punto di richiamo del regno della nostra volontà ecco qui ci sta Luisa che dice io stavo facendo il tombolo Luisa faceva il tombolo lavorava addirittura si manteneva pure io stavo lavorando un giorno e dice ma Gesù vuole fare tutto in me come può essere che mentre io lavoro è Gesù che lavora in me e proprio lui vuole fare questo lavoro poi c'è un lavoro femminile se no Gesù ha fatto anche il tombolo ha fatto tutto e Gesù io proprio le mie dita che stanno nelle tue e lavorano figlia mia quando io stavo sulla terra le mie mani non si abbassavano a lavorare in legne a ribattere chiodi ad aiutare nei lavori fabbrili il mio padre putativo Giuseppe e mentre ciò facevo con quelle mani medesime con quelle dita creavo le anime altre le richiamavo ad altra vita divinizzavo tutte le azioni umane le santificavo dando a ciascuna un merito divino nei movimenti delle mie dita chiamavo in rassegna tutti i movimenti delle dita di tutte le creature e se vedevo che le facevano per me o perché io li volessi fare in loro io continuavo la vita di Nazareth in loro e mi sentivo come rinfrancato da parte loro per i sacrifici e le umiliazioni della mia vita nascosta la mia vita di Nazareth nascosta non viene calcolata dagli uomini mentre non potevo far loro più bene ha fatto il lavoro principale poi il lavoro del Gesù glorificatore che diviniza ogni atto umano che avrebbe fatto comunque con o senza peccato originale la redenzione è stato un qualcosa in più che doveva fare necessariamente prima per pulirci allora se siamo piagati se siamo malati se siamo lebrosi altro che vestiti a festa prima ci dobbiamo curare le piaghe i punti il pus mesi e mesi d'ospedale e poi quando guariamo ci dobbiamo rimettere in sesto e c'è la mia volontà è rimedio è medicina è rimedio è ricostituente è consolatore è cibo è vitamina è purificazione è santificazione è divinizazione la mia divina volontà è tutto la prendono come la vogliono dice quante volte l'anima mi riceve nel santissimo sacramento e e che vuole si vuole sfogare e io sto là ad ascoltare si vuole sfogare e si sfoga sto là dice ma vuoi che voglio dare tante cose mi vuoi ascoltare un pochettino metti giù metti via il libro ringraziamo la divina volontà in quest'atto in questo suono viene in mente pure gli ebrei nel deserto questa manna che venne dal cielo era quest'atto di divina volontà che doveva sostenere e sostenere tutti a seconda dei bisogni di ciascuno la manna era una però per i neonati era cibo che poteva essere digerito per gli uomini che dovevano portare le casse era proteine per gli anziani aveva un altro tipo di nutrienti fitochimici come direbbe il figlio di Giuseppe Giuseppe ecco quindi la divina volontà si fa cibo per tutti a seconda di come lo vogliamo e di come lo chiediamo a seconda delle nostre esigenze figlia mia la vita nascosta che fece a Nazareth non viene calcolata dagli uomini mentre non potevo far loro più bene io facevo scorrere nelle loro mani piedi in ogni particella di ogni creatura una monetina divina di prezzo incalcolabile sicché se la mia passione li redense ed è questa l'opera che necessariamente deve far conoscere per primo la redenzione la vita nascosta corredava ogni azione umana anche la più indifferente di merito divino di prezzo infinito allora questo è quello che dobbiamo fare noi nella nostra vita quotidiana ricevere quest'atto non solo purificatore non solo redentore ma divinizzatore dell'atto di Gesù corrispondente e dice Luisa ma chi può dire quello che comprendevo il bene che si può fare a noi agli altri facendo le cose e questo è importante non perché le faccio per Dio non perché le vuole Dio ma è perché Gesù le vuole fare in me c'è una differenza abissaria perché se l'anima dice lo faccio per te mi fa questo sacrificio queste attività in parrocchia queste cose tutto per Gesù tutto per amor tuo ma qual è il motore che anima questo atto umano? ricevi ricompensa umana qual è la volontà che ti anima? da quella fatta ricompensare da quella fatta aiutare mentre Gesù dice questo trucco per poterti dimenticare di te stessa oblivio di sé assenza di riflessione personale è fare le cose non perché io lo voglio ovviamente fare la volontà di Dio è la condizio principale non solo perché io lo voglio ma perché io lo voglio fare in te mi sono necessario quindi questo atto è necessario a Gesù perché gli serve di umanità per poter continuare e ripetere nella creatura l'opera di divinizzazione di ogni atto umano allora come dicevamo no ieri ogni stato d'animo ogni cosa che ci passa nella mente nel cuore dice ma è la mia vita no sono atti sono stati di Gesù in modo che acquisiamo la libertà da noi stessi il distacco da noi stessi e dice Gesù io ti metterò in tante condizioni addirittura all'improvviso lui se si sentiva cambiare dalla notte al giorno e perché Gesù ha esigenze differenti siccome noi viviamo nel tempo e nello spazio non ci può mettere tutto allora noi pare che sentiamo una cosa alla volta sequenzialmente ma è vita di Gesù che si svolge allora convinciamoci di questo e facciamo tutte le nostre azioni perché è Gesù che le vuole sì ma è soprattutto perché è Gesù che le vuole fare in noi gli servono a lui abbiamo concluso figlia mia certo che in questa casa di Nazareth regnava la mia volontà come in cielo così in terra io e la mia mamma celeste non conoscevamo altra volontà San Giuseppe viveva ai riflessi della nostra volontà ma io ero come un re senza popolo isolato allora questo regno della divina volontà si forma in questa casetta e San Giuseppe custode custode discretissimo giustissimo lui protegge protegge la formazione di questo regno e viveva i riflessi di questa luce che emanava dagli atti di Gesù e Maria Gesù scese nel basso degli atti umani vuoi sapere quale fu la causa per cui mi abbassai tanto a fare gli atti umani la necessità in me non esisteva ma lo facevo per compiere in ogni atto la divina volontà era sempre quella mia divina volontà che avevo a che fare che avevo da fare era la sua fissazione la sua passione predominante e mentre la mia divina volontà mi faceva scendere negli atti umani delle creature io chiamavo tutti gli atti umani in ciascuna di esse affinché ricevessero il grandono di far scendere il mio voler divino come atto primo ecco restiamo in quest'atto di Gesù e ci prepariamo con lui alla Santa Messa continuiamo allora nella volontà di Dio indoviniamo un po' in nome di cui continuiamo nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen con il permesso del Padre c'è qui un'indicazione di un canale YouTube che si chiama Involuntate dei Luisa Piccarreta non ha nessun nome di creatura che non sia Luisa però lì vengono messi una volta ogni tanto degli audio e si possono anche scaricare utilizzare piccole visualizzazioni per noi per gli altri per la nostra cameretta per il nostro scenacolo come volettivo Involuntate dei Luisa Piccarreta In modalità riposo di cui abbiamo tanto bisogno continuiamo questo giro nella Divina Volontà e facendo eco alle parole agli atti di Luisa diciamo ma Gesù io sto giro sì adesso mi trovo poi quando lo faccio mi esce brutto brutto tutto un po' sgarruppato e se inizio non finisco e Gesù dice figlia mia il tuo iniziare è il fare e la tua mortificazione per non poterlo completare in quanto esso è infinito è il completare allora ci mettiamo con un atto di volontà a dire inizio questo giro utilizzando la catena del Santo Rosario utilizzando la ragione il pensiero la volontà individualmente nel scenacolo anche se il giro è sempre un atto personalissimo e unico di ogni anima con il suo Dio non è un lavoro di gruppo però lo facciamo in comunione allora il solo iniziare è il fare bonus e la mortificazione per dire guarda mi è uscito brutto brutto se non lo riesco manco a finire ma me ne devo andare quello vuol dire uguale completare grazie Gesù grazie nostra Madre Santissima allora andiamo avanti in questo giro dentro l'atto dell'incarnazione atto primo atto centrale atto necessario correnti d'amore tra Gesù e Maria la presentazione e le prime manifestazioni alle creature il compimento della legge Gesù è il padre le lacrime nascoste di Gesù e la preparazione del regno dentro la sua umanità questo tutto nella sua vita nascosta passiamo ad un altro atto uno dei trilioni possibili questo lo chiamiamo la crescita di Gesù o come direbbe Luisa la crescenza di Gesù e Gesù cresceva in sapienza in statura e in grazia davanti a Dio e davanti agli uomini ci dice l'evangelista Luca leggiamo insieme il testo e poi entriamo in questo atto nella misura ecco così come lo leggiamo Gesù dice di me sta scritto nel Santo Vangelo che crescevo in sapienza presso Dio e presso gli uomini come Dio non potevo né crescere né decrescere il mio crescere non era altro che la mia umanità che come cresceva negli anni veniva a moltiplicare i miei atti nel volere supremo e un atto in più che facevo era un crescere in più nella sapienza del mio celeste Padre con questa crescita Gesù dice io formai in me la nuova creazione di tutti gli atti delle creature ecco Gesù figlio dell'uomo compie perfettamente il primo comando che Gesù che il Padre diede ad Adamo ed Eva crescete e moltiplicateli lui lo fa perfettamente è lui il modello per Adamo e non soltanto nella progenie moltiplicatevi ma crescete e moltiplicate i vostri atti crescete nella somiglianza di Dio ora ovviamente la divinità di Gesù non cresceva ma la sua umanità doveva crescere e come fu perfezionata questa umanità ce lo dice la scrittura l'autore della lettera agli ebrei con l'ubiglienza si perfezionò allora lui cresceva e moltiplicava gli atti sarebbe troppo lungo dirti figlia mia i mari di sapienza di bontà di bellezza di potenza tanto che pure noi cieche creature ce ne accorgevamo questi mari che inghiottiva la mia umanità in ogni atto in più che faceva ogni atto in più che faceva Gesù nella sua volontà formando questo regno in sé inghiottiva mari di bellezza di potenza figlia mia la santità nella mia volontà cresce ad ogni istante ecco dove entriamo noi dice Gesù nella santità basata sulle virtù umane che pur ci è necessaria però gli atti si compiono nel discreto se ho l'opportunità di esercitare la pazienza esercito la pazienza se nessuno mi festa i piedi e sono tranquilla ad ascoltare musica nella mia stanza non esercito la pazienza se il mio superiore al lavoro o il mio superiore spirituale mi dà un'obbedienza esercito l'obbedienza se non ricevo nessun comando sembra che l'obbedienza questa bella virtù è sospesa e non ha occasione per essersi esercitata nelle virtù perché le virtù se si vogliono esercitare molte volte manca l'occasione se uno vuole esercitare l'obbedienza e ci vuole chi la comandi e può succedere che giorni e settimane manca chi dia nuovi comandi per farla ubbidire e quindi per quanta buona volontà avrà ad ubbidire la povera ubbidienza rimarrà oziosa e così per la pazienza l'umiltà e tutte le altre virtù siccome sono virtù di questo basso mondo ci vogliono le altre creature per tenervi esercitate invece la mia volontà che è virtù di cielo io solo basto per tenerla in ogni istante in continuo esercizio e in continua crescita anche nell'atto di dormire Gesù questo respiro questo sonno lo metto nella tua volontà e come tu dormivi e dici sai perché io dormivo chi avrebbe paura di un Dio che dorme chi non avrebbe tutta la fede io dormivo per dare ancora più fiducia alle mie creature e dormivo per riparare al mancato riposo della mia divina volontà che vorrebbe riposarsi tanto in questo settimo giorno della creazione e che ancora non può riposarsi quindi anche l'atto del dormire è un atto crescente efficacissimo potentissimo nella divina volontà quindi anche noi nel dormire che cosa facciamo? ci restano tre facoltà il respiro il palpito e la circolazione del sangue adorazione profonda in ogni respiro amore intenso in ogni palpito circolazione della gloria perenne in ogni circolazione del sangue ninna nanna nel russo crescere crescenza come la mia umanità fu concepita cominciai una nuova creazione c'è anche un altro passo della scrittura dove parla della nostra crescita e San Paolo agli effesini che dice finché arriviamo noi tutti all'unità della fede e della conoscenza del figlio di Dio allo stato di uomo perfetto nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo l'età perfetta la statura perfetta la misura perfetta la crescita fino a pienezza fino a contenere tutto Cristo fino ad identificarci in Lui che vuol dire per noi questa crescita? innanzitutto prendere per noi gli interessi di Gesù abbiamo sentito la parola maturità allungarci farci stirare da Gesù crescere come l'organo più grande più protettivo del corpo mistico chiesa qual è l'organo più grande più protettivo del corpo umano? la pelle una volta Luisa dice Gesù senti Gesù ma se tutte le anima ogni anima è parte sono membra del corpo mistico e San Paolo ce lo dice così bene dice ma le anime che vivranno nella tua volontà che posto ci avranno magari il cuore il cuore o la testa o la mano destra dice no figlia mia le anime che vivono nella mia volontà sono la pelle del corpo mistico che la pelle è l'organo più grande è l'organo che si rigenera continuamente ed è l'organo in cui circola in modo capillare il sangue che ossigena tutti gli organi e poi dice un corpo umano senza pelle orrore bruttissimo è solo la pelle che rende bello il corpo umano allora questa nostra crescita fino ad allungarci come l'uomo gomma no dei fantastici quattro ad allungarci essere pelle del corpo mistico chiesa per allora Luisa subito questa lezione cina di Gesù dice Gesù mi metto nella tua volontà e mi voglio allungare per essere pelle del corpo mistico e far circolare nel corpo mistico il sangue arterioso il sangue ossigenato della grazia della tua volontà a beneficio di tutti quanti gli altri organi un'altra volta dice dopo ciò io continuavo a pregare e non so come mi sono trovata fuori di me stessa insieme con Gesù io ero piccola e Gesù era grande e lui mi ha detto figlia mia allungati in modo da eguagliarmi voglio che le tue braccia arrivino alle mie la tua bocca alla mia io non sapevo come fare perché ero troppo piccola e Gesù ha messo le sue mani nelle mie e mi ha ripetuto allungati allungati la stirava Luisa la stirava per arrivare alla maturità alla statura alla misura di Cristo e allora facciamoci pelle del corpo mistico della Santa Chiesa la pelle che protegge che porta alla circolazione del sangue io ho provato e mi sentivo come una molla che se volevo allungarmi mi allungavo se no rimanevo piccola onde con facilità mi sono allungata e ho poggiato la mia testa sulla spalla di Gesù la crescita del moltiplicare gli atti la crescita anche della maturità nostra dell'essere cristiani la crescita per essere pelle protettiva del corpo mistico pelle unitiva del corpo mistico della Chiesa per proteggerla dalle ferite non per partassarla non per chiacchierarne facciamo il nostro ufficio mi sento dire come nostra madre santissima dice figlia mia tecchi molto 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 meno a chiacchierare della squadra di calcio piuttosto che a chiacchierare dello stato della Chiesa cioè a me una squadra dice guarda si è alzato due metri e sessanta da terra ci è rimasto tre secondi e l'ha infilata nell'angolino destra che gesto atletico gloria a Dio benedetto sia il Signore e invece no noi si chiacchiere delle cose sante sempre chiacchiere sono anzi meglio chiacchierare delle cose profane se proprio dobbiamo chiacchierare allora farci pelle vuol dire proteggere vuol dire operare con gli atti nascosti far circolare il sangue dai capillari della pelle che arrivi a tutti gli organi perché ne restino ossigenati gli organi che possono essere i vertici i capi ecclesiastici i capi civili è questo l'operare che dobbiamo fare noi allora ci mettiamo in questa crescita di Gesù in quest'atto di Gesù di crescere e diciamo Gesù allungami stirami fino a che io ti ti do la pariglia ti eguaglio nella misura nella statura per poter contenere identificarmi con tutto te e poter essere pelle per il corpo mistico della chiesa Luisa dice così come Veronica mise il panno per ecco asciugarti il volto io voglio fare di tutto questo mio corpo tanti piccoli brani e pezzetti che coprino ogni tua ferita e con ogni pezzetto voglio dire ti amo ti adoro ti benedico questo è il compito fondamentale dell'anima che vuole vivere nella divina volontà la nostra stessa parola deve essere figlia legittima della parola incarnata ricordo una parola di nostra Madre Santissima a Padre Stefano Gobbi non so se avete mai sentito il del movimento sacerdotale Mariano in uno dei dei tanti messaggi nostra Madre Santissima disse fate che ogni vostra parola sia circondata da profondo silenzio la parola pesata la parola che o edifica o tace come nella divina volontà spesso a volte non serve parlare occorre operare e allora operiamo per la Santa Chiesa con i nostri atti nascosti guadagniamo il tempo eterno e operiamo per la gloria del corpo mistico della Chiesa crescita di Gesù e della nostra fino a che acquistiamo la sua mentalità la sua forma mentis il suo modus operandi crescita Gesù cresce a un certo punto che succede? compie 30 anni San Giuseppe era già passato all'eternità era rimasto solo con la mamma ogni giorno che passava e si sentiva che il momento arrivava quel momento arrivava un altro Fiat per nostra Madre Santissima lei l'ha dato al mondo l'ha tenuto con sé quando è dovuto andare via l'ha lasciato andare e il mondo gliel'ha restituita a brandelli noi gliel'abbiamo restituita a brandelli tieni donna adesso te lo puoi riprendere seppelliscilo grazie Madre Santissima ti sei pure mortificata a metterlo subito in quella paglia pungente anziché tenerlo in braccio perché il voler divino ti ha fatto comprendere che non è tuo è di tutti mettilo giù al freddo separazione da sua Madre per dare inizio alla vita pubblica chiunque fa la volontà del Padre Mio che nei cieli questi è per me fratello sorella e madre quando poi venne il compimento della redenzione e dovendo fare vita pubblica ci separammo con la mamma sebbene la volontà unica che ci animava ci teneva sempre immedesimati insieme così sto facendo con te prima ero sempre con te Luisa come lo sono tuttora ma dovendo lavorare per il regno della mia volontà divina e dovendo tu slanciarti negli atti di essa e noi la sediamo slanciati in questa immensità il lavoro pare che ci allontani la mia volontà tiene la forza di eclissarmi abbiamo visto che questa divina volontà è una sorta di contenitore infinito motore degli atti di Dio e contenitore degli stessi atti di Dio con tutte le qualità dell'operare divino e al centro di questo magazzino infinito pullulante di atti viventi al centro c'è l'umanità di Gesù allora Luisa in questa volontà sta attaccata all'umanità di Gesù è come sott'acqua se stai vicino vedi il tuo partner in scuba diving poi come ti allontani un metro non lo vedi più che è troppa la luce oppure le acque allora Gesù si doveva eclissare per slanciare Luisa negli atti altrimenti se tu resteresti attaccata alla mia veste alla mia umanità la mia volontà tiene la forza di eclissarmi e io godo di questa eclissi del mio supremo volere e da dentro te stessa veggo il tuo volo i tuoi atti nel Fiat Eterno è lo stesso è lo stesso pure per noi la calamita è Gesù Gesù crocifisso lui si manifesta si fa conoscere negli scritti di Luisa nei primi volumi che parlano del vivere nel divinvolere l'undici il dodici in modo continuativo graduale progressivo crescente incessante manifesta come la sua divina volontà operava nella sua umanità poi quando Luisa pensava di poter far dimora sempre nella sentita percepita goduta umanità di Gesù Gesù si eclissa e dice vai vai slanciati guarda cosa sta facendo la mia volontà nell'atto di mettere fuori tutta la macchina della creazione nell'atto di creare e mantenere in esistenza ogni cosa creata vai a vedere che cosa sta facendo questa divina volontà perché come l'abbiamo visto oggi nel quinto giorno dell'eccesso d'amore che ci ha letto Pasqua in cappella la divina volontà vuole la compagnia della creatura in ogni atto allora è un ribadire di questa dimensione di chiamare Gesù in tutti gli atti nostri e lui mai ci negherà il suo atto e poi di farci slanciare del Gesù stesso in tutti gli atti della sua volontà e se per concimare queste vite divine sentiremo la privazione sentiremo il dolore sentiamo che nulla ha senso ecco questa è una pallidissima infinitesimale porzione della pena della privazione sofferta da Maria Santissima sofferta da Gesù per tutta la sua vita pur essendo uno con il Padre nelle pene mi sentivo isolato e sofferta da Luisa poi ogni tanto magari si legge in mistici come Maria Valtorta nei viaggi apostolici ogni tanto Gesù tornava a Nazareth e si rincontravano con la mamma ci teneva sempre immedezimati insieme ma è certo che le nostre persone si trovavano lontani chi ad un punto chi all'altro e non sapendo stare non potendo troppo stare a lungo il vero amore separato perché sente l'irresistibile bisogno di riposarsi l'uno nell'altro e di confidarsi i loro segreti l'esito delle loro imprese i loro dolori perciò ora io facevo le scappatine per rivederla ogni tanto le faceva le sorprese mamma tornava a Nazareth con chi si poteva confidare con chi poteva parlare a lei in lei ha depositato i sacramenti che doveva istituire le parabole la parola il Vangelo la Chiesa tutto in Maria Santissima è depositato con chi doveva dire Pietro mi preoccupa un po' figlio mio è un uomo schietto un uomo buono sarà degno tuo sacerdote chi lo doveva consolare dei tradimenti e se ne andava da Maria a volte per poter avvicinare le donne cristiani come tutti Gesù doveva portarsi le donne insieme agli apostoli se no come faceva a parlare alle donne era impossibile avvicinare allora si portava Maria Maria Salome la mamma di Giacomo e Giovanni piuttosto che Maria di Alfeo portava al seguito le donne Maria Maddalena dopo la sua conversione che li aiutavano anche in quel poco che doveva servire per rendere meno dura anche fisicamente la loro vita apostolica e poi diceva no adesso andiamo su nella Decapoli adesso ci spingiamo in zone troppo lontane impervie tornate a casa e Maria andiamo a casa allora nella separazione percepita siamo sempre comunque uniti con Gesù figlia mia coraggio non ti abbattere io non ti lascio tanto è vero che sempre da dentro il tuo interno che esco Gesù vieni non ce la faccio più non ce la faccio più vieni vita mia non resisto e Gesù è uscito dal mio interno ah era lì è uscito dal mio interno e mi ha detto per trattenermi con te e se tu non sempre mi vedi io faccio per darti lo faccio per darti il campo a seguire quell'atto solo della mia volontà che contiene tutti gli atti insieme allora grazie nostra madre santissima per l'atto di accudire Gesù per 30 anni per l'atto di lasciarlo andare e per la pena della privazione che hai sofferto di lui ecco andiamo nell'ultimo atto di questo giro quest'atto lo chiamiamo la vita nascosta dell'anima nella vita nascosta di Gesù la vita nascosta di Gesù la sua vita terrena nascosta è l'atto della nostra vita interiore la vita nascosta di Gesù sta alla vita interiore dell'anima come la vita pubblica di Gesù sta alla vita relazionale dell'anima allora siccome è nella vita nascosta che Gesù ha formato il regno della divina volontà e ha formato tutta la creazione della diviniziazione degli atti di ciascuna creatura è lì che dobbiamo dimorare metterci costantemente nella vita nascosta una volta venne chiesto al padre Bernardino Bucci carissimo padre di cui per cui preghiamo per la sua condizione di salute tanto caro forse l'ultima persona vivente che ha conosciuto Luisa lui era il nipote di Zia Rosaria andava nella stanza di Luisa era lui che le portava le orecchiette ed era lui che le andava a prendere dopo che lei le rimetteva sane e profumate e lui aiutava a raccogliere gli spilli che cadevano dal tongolo e poi la sua famiglia contava su un suo fratello per farsi sacerdote e Luisa lui stava in un angolo della stanza ha detto no no questo qua e quindi il padre gli si rivolse questa domanda è venuto molte volte negli Stati Uniti tante volte tanti giri con tanta semplicità senza suono di tronde soprattutto in un momento in cui ecco per far comprendere che Luisa è figlia della Chiesa Cattolica è passato tutti gli Stati Maria e Monti per dire Luisa è figlia della Chiesa e dice ma ma qual è allora la caratteristica dell'anima che vive nella divina volontà top of mind gli dice il nascondimento ah interessante il nascondimento ne potevo pensare diverse però questa mi fa pensare la santità del vivere nel vivimvolere di per sé è vita interiore non è che si riconosce per un uniforme per un'appartenenza per un modus particolare per una regola esterna no essa contiene tutte le possibili immaginabili spiritualità e tutte le chiamate tutte sono benvenute tutte ma si svolge nell'interno di nostra madre sentissima chi avrebbe detto qualcosa chi avrebbe detto che lei conteneva la divina volontà operante andava a prendere l'acqua e chi sapeva niente di lei serbava queste cose nel suo cuore non ha parlato quasi questo non vuol dire non parlare per proclamare le verità ma non parlare degli atti interiori che si fanno questi questi dice Gesù restano nel sacrario tra me e l'anima con un boccio di rosa chiuso un'altra volta dice chi parla troppo non solo si svuota di Dio ma svuota gli altri di Dio come il bidone aspira tutti wow oppure dice mai manifestare il proprio interno alle creature chi non è peccatore chi non è debole chi non ha un passato inconfessabile la vita interia le nostre debolezze dice lui sa più se ne parla e più aumentano non è umiltà dire ma io così ma io no è egocentrismo mettiamoci da in questo punto di vista a chi parlare di queste debolezze pentirsi e confessarle e tra l'altro imparare anche io ad utilizzare il santo sacramento della santa confessione alla fine del volume 1 di Luisa c'è una confessione di Luisa con Gesù che prende nel sacerdote il sacerdote ovviamente in persona a Cristi ma è Gesù stesso che fa l'ufficio del confessore a Luisa sette ore contrizione dei peccati confessione riparazione e Luisa confessa il suo peccato non quello di suo zio non la situazione familiare non il dubbio della vocazione questa non è confessione questo è il consultorio della ASL no no è importante lo dico lo diciamo a noi stessi perché dobbiamo aiutare e proteggere i nostri ministri aiutarli a esercitare aiutarli a esercitare il loro ufficio aiutarla ad amministrare i sacramenti non inondarli di chiacchiere del mio problema del mio colloquio dice Gesù quando Luisa si confessa ripeti non sono ricordo attraverso il mare nel mare tu sei calpesto la terra sei sotto i miei piedi peccai e Gesù risponde eppure ti amai e in quello stesso istante ti conservai contrizione del nostro peccato Madre Santissima aiutami a far capire l'orrore del peccato e Gesù dice non è non peccare più non voler peccare più poi magari uno ricade e va bene ci rialziamo ma la confessione per avere il frutto deve essere la confessione contrita del proprio peccato né del peccato altrui né di altro così che anche i nostri ministri non debbano esercitare una pazienza sovraumana ma possono avere più tempo ed energia per occuparsi delle verità del vivere nel tivinvolente e così che noi possiamo finalmente nella volontà divina consentire ai sacramenti inclusa la confessione e l'eucaristia e la confirmation la cresina di spiegare gli effetti per cui sono stati istituiti trompi abusi dei sacramenti aiutiamoci con la maturità con la crescenza ad utilizzarli in modo ordinato la Vergine Santissima insegna all'anima come tenere lo sguardo fisso su Gesù bellezza dell'anima interiore stiamo parlando della vita nascosta dell'anima in Gesù e chi meglio di nostra Madre Santissima questi sono i modelli Maria Gesù Maria e Luisa dice tieni sempre lo sguardo fisso in Gesù figlia mia non ti imbarazzare se lui non ti dice niente o se tu non saprai dire nulla guardalo solo nel tuo interno che con solo guardarlo comprenderai tutto farai tutto soddisferai per tutti la teologia della contemplazione questa è la bellezza dell'anima interiore che senza istruzione siccome non c'è nessuna cosa esterna che l'attira o l'inquieta ma tutto il suo attiramento i suoi beni stanno conchiusi nell'interno facilmente con il semplice guardare Gesù tutto intende tutto opera poi c'è un altro elemento della vita nascosta di Gesù non soltanto è l'atto della vita interiore dell'anima ma ci dà anche una proporzione vita nascosta verso vita pubblica quanti anni? 30 verso 3 anzi 39 mesi verso 3 quanto fa 30 diviso 3? 10 rapporto vita nascosta vita pubblica 10 a 1 questo per noi è un'indicazione un modello specifico di come deve essere la nostra vita a modello a misura del verbo incarnato 10 vita interiore 1 vita esteriore vita esterna ovviamente parlo quasi per paradosso però credo che come dice Luisa ci capiamo la mia vita nascosta fu vittima di tutto l'interno dell'uomo sicché soddisfece per i pensieri desideri tendenze affetti cattivi tutto ciò che fa di esterno l'uomo non è altro che lo sbocco dell'interno questo sia nel male che nel bene che tutto sia lo sbocco dell'interno anche nel bene se tanto male si vede nell'esterno che sarà l'interno quindi molto mi costò il rifacimento dell'interno dell'uomo basta dire che ci impiegai la prolissità di trent'anni volume undici e allora l'anima nascosta che cosa fa cioè l'anima interiore che poi uno viva in casa con altre dieci persone e debba andare al lavoro per otto ore al giorno in un cubicolo con altri sette colleghi dice Luisa non sono le occupazioni che ci distolgono da Gesù è la volontà stavo dicendo al mio Gesù vedi io non so far nulla né tengo nulla da darti però voglio darti anche i miei non nulla unisco questi miei non nulla al tutto che sempre ti chiede anime ora mentre ciò dicevo ed altro ancora il mio Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto figlia mia come mi è dolce e gradita la preghiera delle anime intime con me come mi sento ripetere la mia vita nascosta di Nazareth senza alcuna esteriorità senza circolo di gente senza suono di campane tutto negletto solo tanto che appena ero conosciuto io mi elevavo tra cielo e terra e chiedevo anime e neppure un respiro un palpito mi sfuggiva che non chiedeva anime e come ciò facevo il mio squillo suonava nel cielo e attirava l'amore del padre a cedermi le anime e questo suono ripercuotendosi nei cuori gridava con voce sonora anime quante meraviglie non operai nella mia vita nascosta solo conosciute al padre mio quando preghi chiuditi nella tua stanza e il tuo padre che è nei cieli ti ascolterà solo conosciute dal padre del cielo e dalla mia mamma in terra così l'anima nascosta intima con me come prega se nessun suono si sente in terra le sue preghiere come campane suonano più vibranti in cielo da chiamare tutto il cielo ad unirsi con lei e far scendere misericordie sopra la terra infine concludiamo con questo passo dove Luisa vede questa questa macchina grande nella sua mente questa macchina conteneva innumerevoli fontane come degli spruzzi mandava spruzzi su tutto tutte le direzioni tutti ne restavano inondati cielo terra e tutte le creature alcuni si facevano spruzzare inondare altri si scansavano altri entravano proprio nella macchina allora Gesù dice figlia mia la macchina sono io il mio amore tiene in moto la macchina e a tutti si riversa per disporle a ricevere un tanto bene le anime che vivono e fanno e fanno la mia volontà e vivono in essa poi stanno nella stessa macchina fanno dimora con la macchina l'umanità di Gesù come è bello vedere queste anime che vivono nel mio volere che escono da dentro la mia macchina la sua umanità come tante altre piccole macchine hanno un ufficio speciale specialissimo fanno dimora dentro la macchina l'umanità di Gesù e si diffondono a bene di tutti cielo terra purgatorio tutte le sostituzioni tutte le riparazioni tutti i ringraziamenti e poi ritornano si rifugiano nel parcheggio loro preferenziale ritornano nella mia macchina e scompariscono da mezzo le creature dice ma che è successo conversioni miracolose misericordia grazie ma chi è stato dov'è sparita e vivono di me e solo di me che è bello fare dimora dentro l'umanità di Gesù e quando lui ci dà la carica come la rotellina uscire come delle macchinette e fare questo giro in apnea quasi cielo terra padre figlio spirito santo madre santissima purgatorio angeli santi creazione cielo luna stelle nuvole terra fiorita animali del cielo pesci del mare uccelli animali della terra uomo tutte le creature animo in purgatorio tutti e poi ritornare dentro Gesù tosta avete visto qualcuno è successa una rivoluzione tutto è stato imperlato di luce si sono ottenute delle grazie infinite ma chi è stato ma dove è andata l'avete vista oh oh anima che vivi nel mio volere tu sola sei lo scopo della gloria della creazione il decoro l'onore delle mie opere e il compimento della mia redenzione in te accentro tutto tutti i rapporti ti siano restituiti e se tu per debolezza mancassi io per decoro e onore della mia volontà ti supplirò in tutto e allora continuiamo la nostra vita nascosta e pubblica nell'umanità di Gesù questo è il sommario del nostro piccolo giro dove al centro c'è l'atto primo centrale necessario Gesù è il sole della incarnazione del verbo che emana raggi infiniti e tutti gli atti la creazione degli angeli dell'uomo la creazione naturale la redenzione l'opera della scientificazione dipendono da lui tutto in vista di lui tutto per lui e noi in questo giro siamo passati per alcuni di questi atti correnti d'amore tra Gesù e Maria le prime manifestazioni alle creature il compimento della legge Gesù è il padre le lacrime le pene nascoste di Gesù la preparazione del regno la crescita di Gesù separazione dalla mamma vita nascosta dell'anima in Gesù continuiamo grazie a tutti